Buongiorno a chi c'è, ai pochissimi che ci sono, per ora siamo al record assolutamente negativo di partecipazione alle videoconferenze, con 8 persone a parte a me e nemmeno un medico e solo i miei pazienti, questo voglio che sia registrato e che rimanga nella registrazione, io ho invitato 170 medici e poi per l'ultimo scrupolo, vista l'importanza di avere la partecipazione di medici di base, la maggior parte di 270 sono medici di parte direttamente dei pazienti e per cercare di garantire la partecipazione, due giorni fa ho rimandato oltre 90 mail a quelli che avevo contattato, non ce n'è nemmeno uno, prendiamo atto della cosa. Come si svingerà quindi il seguente incontro, che sarà relativamente breve, visto che siamo anche pochi e non c'è nemmeno un medico al potere privato, io farò un'introduzione che leggerò in questo caso, perché ovviamente io vado a braccio senza nessun problema, so benissimo quello che devo dire, ma qui essendo un argomento estremamente delicato, estremamente particolare e anche quello che dirò, non voglio minimamente essere franteso e voglio essere sicuro che sia chiaro quello che dirò e che poi potremmo commentare anche insieme perché potremmo anche non essere d'accordo con quello che nessuno ha detto. Poi ci saranno delle piccolissime proposte che ho già comunicato comunque in anteprima sul canale telegram dei pazienti oggi, c'è anche delle piccole proposte che io faccio migliorare le cose e poi spazio a voi pazienti per discutere, se nel frattempo siete entrato qualche medico, chi ci sarà potrà replicare dal punto di vista dei medici dei pazienti. Se non ci sarà nessuno, ci saluteremo senza dire altro, senza una vera conclusione con le vostre proposte, con le vostre idee, con le vostre aramentele, con il vostro invece magari dire no, anzi io mi trovo molto bene e sono d'accordo con come funziona il sistema. Voi sapete che è un periodo estremamente particolare, sono ricominciati episodi di violenza anche abbastanza eclatante, ci sono proposte da parte della Federazione Nazionale dell'Ordine Medici, ho visto personalmente il video di mettere i metal detector negli ospedali e in tutti gli ambulatori medici che io lo trovo un po' sconvolgente, sarà che io mi sono perfino disabituato ad averli in banca, qui in Cambogia si va in banca, non c'è manco la sicurezza fuori, non c'è niente, però addirittura proviamo a immaginare adesso un paziente che deve andare dal medico e deve passare per me dal telector, essere perquisito, eccetera, eccetera, altro non è che normalmente ci siano episodi armati, se poi entrano, prendono le sedie e le scagliano sui medici non è che si sono portati i lerni da casa. Poi dall'altro punto di vista c'è perfino la proposta di arresto in flagranza, c'è proprio una dichiarazione di guerra vera e propria che si sta creando, che è una cosa che è veramente sconvolgente. Ora ricordiamoci sempre che uno può avere diritti, doveri e ora il mio discorso riguarderà anche quello, ve lo leggerò, però esiste un limite, ciao Sara, un medico ce l'abbiamo anche se non è medico di base, l'importante è che almeno Sara è come l'unica rappresentante dei medici, tanto stavo solo facendo una premessa Sara, non ti sei persa ancora niente, perché ci sei solo tu, non c'è nemmeno un medico di base di tutti quelli che abbiamo invitato. Rimani per favore Sara, perché almeno tu potrai dire la tua dal punto di vista medico, però indirettamente, perché non sei un medico di base, quindi comunque non siamo in generale, però almeno potrai dire la tua sulle cose che io dirò, comunque come medico sei in grado di poter dire tutto. Stavo spiegando ai pazienti prima, te lo dico anche a te che anche adesso ho visto il tuo ruolo comunque importante, in quanto unico medico, infatti mi è presente, che io leggerò, esatto, un'introduzione, di solito vado a braccio, ma in questo caso per la delicatezza dell'argomento lo leggerò, io ho spiegato il problema prima che trattassi della violenza che c'è in questo periodo, delle cose assurde, del metal detector, delle cose, ricordando, ricordate che per quanto uno possa avere i diritti, nessun diritto giustifica che per esercitare il proprio diritto si debba ricorrere alla violenza, ma questo vale per altri settori, perché poi non esistono solamente le violenze fisiche, esistono le violenze fisiche, le violenze psicologiche, sono tanti tipi di violenza. Ora io leggerò qualcosa che è la mia personale opinione di essere umano, prima ancora che di professionista medico, che poi tra l'altro rimarrà anche per i vostri commenti. Allora, primo concetto, quello tra medico di base e paziente non è un rapporto paritario, dire tra medico e paziente in generale vale anche nel mio caso, e non ci sono gli stessi diritti e gli stessi doveri. Il medico di base eserce da un dovere nei confronti del paziente per conto del sbordatore di lavoro, che non è il paziente stesso, ma la comunità rappresentata alle istituzioni che si avvalgono della sua opera professionale per offrire al paziente i servizi previsti da una sorta di contratto collettivo tra Stato o Regione, non ho mai capito come funzioni generalmente quanto sia la Regione o lo Stato, perché sono un po' fuori, e c'è. Nell'esercitare questo dovere ha degli obblighi, ma anche dei diritti. Il paziente in teoria in questo rapporto non ha alcun dovere contrattuale né diretto né indiretto nei confronti del medico, ma è solo il beneficiario della prestazione nei limiti di quanto concesso ma indipendentemente da doveri e diritti legali, esistono doveri e diritti morali di rispetto dell'altro come persona, che non sono a carico solo di una delle due parti, ma di entrambi hanno lo stesso identico modo. Entrambi hanno un dovere morale di ricordarsi sempre che dall'altra parte c'è una persona e non solo un medico o un patente. E purtroppo sembra che oggi questo si è assaltato completamente o quantomeno dimenticato. Anche lo specialista, che io in questo caso è coinvolto in questo triangolo, ha dei doveri sia verso il paziente che verso il medico di medicina generale, ma allo stesso tempo anche diritti che sia paziente che medico di medicina generale devono rispettare. Sia per dovere legale o deontologico, se sapete che può dire codice deontologico, sia per dovere morale, ovvero rispetto al superadetto. Ma senza dimenticare che in caso di conflitto tra medico di base e paziente che ha rispetto di qualunque imposizione da parte del codice deontologico, lo specialista in quanto medico ha il dovere prima nei confronti del paziente che nei confronti del medico di base. E lo stesso vale per il medico di base nei confronti dello specialista. Leggi e regole scritte dovrebbero anzi passare sempre al secondo posto, mentre al primo ci dovrebbe sempre essere rispetto nei confronti dell'altro. In questo si colloca un difficile punto, quello relativo al dovere di verità e di non mentire che sia lo specialista e il medico di base come medici hanno nei confronti del paziente, che può essere incompatibile con il rispetto dell'altra figura professionale in tale collega, sia il medico di base o lo specialista. Come dovrebbe comportarsi un medico nei confronti di un altro medico che ha comportamenti scorretti o abusatori con il paziente o che mostra evidente negligenza, questo può valere in entrambe le direzioni, se mi è piatto, o anche se lo specialista ha quello che si sta comportando male con il paziente o che mostra evidente negligenza, superficialità o incompetenza. Il codice deontologico sembra attuale imporre di proteggere il collega, anche se questo comportasse mentire al paziente, ma nel mio caso questo non sarà mai rispettato, qualunque sia la conseguenza la quale dovesse andare in conto, perché il diritto del paziente di non avere un medico che di mente viene al primo posto, sempre e così. Ovviamente però, sia per il medico di base che per lo specialista, le critiche non devono mai derivare solo da alcuni personaggi, ma coincidere con cose reali verificabili e non sarebbe il meno corretto prendere posizione al favore del paziente, qualora sia lui o con lei ad avere posto un sacco. Ci siamo anche qui? Poi commenteremo. Detto questo, ho tirato una serie di proposte e considerazioni per rendere più facile per tutti questo triangolo, non sempre amoroso, tra medico di base, specialista del paziente, senza che sia più debole, se il paziente abbanno le offese. Qual è il ruolo del medico di base nel rapporto tra paziente e specialista, in particolare quando specialista sono io, per il mio modo particolare di gestire il paziente, i specifici disturbi di quali mi occupo, i disturbi che non richiedono una visita diretta, il fatto di fare le videoconsulenze, l'iperattenzione che sta aumentando sempre di più alla sicurezza, all'assenza di conseguenze, siamo arrivati a 6 livelli di check, se vogliamo includere il paziente, al medico di paziente, di medicina generale, non compete in questo caso fare un diagnosi, cosa peraltro non possibile, meno lo specialista che io chiedo, non decidere la terapia tridonea, cosa per la quale in teoria ha competenza interiore a quella dello specialista, non decidere sulla base della terapia tridone personale, circa lo specialista, o la consulenza da lui proposta, o nei modi proposti, per esempio il fatto di fare le videoconsulenze, o sul fatto che il paziente abbia trovato lo specialista in internet solo, dove, ma solo ed istitivamente verificare, peraltro nel mio caso addirittura come il sesto livello di check, se esistono possibili contraindicazioni e interazioni sfuggite sia allo specialista che al paziente, o altro non tenuta in considerazione dallo specialista, il medico di pace è in tal caso, dando un esempio giuridico a corte in appello, non il specialismo grado, che è invece lo specialista. Proposta al medico per rendere le cose più semplici al paziente. Deve uno fare videoconsulenza su WhatsApp con il paziente quando non sia necessario un contropretendo, e nel caso di sistemino la terapia del mio prestito, il paziente, perché il medico può fisicare il paziente e io non posso malvisire. Non c'è alcun bisogno di usare il Dr. Lib, l'app che usano adesso molti medici, o programmare appuntamenti in ambulatorio solo per quello, visto le di solito bastano 3 minuti, comunque meno di 5 di sicuro, per spiegare al medico cosa serve perché lo si sta in quel momento contattando. solo il paziente che dice, buongiorno dottore, io parlo perché ho dato uno specialista, mi ha gestito questa terapia, ci vuole 3 minuti, c'è bisogno di trontare un appuntamento che ti danno. Ora, io pure dico, se dovete fare il controllo post terapia, dovete trontare l'appuntamento, ma se mi dovete chiedere una cosa, mi chiarifico di trontare l'appuntamento per potermi rivolgere la parola, mi sembra una buona soluzione, anche per il medico che si smillisce così dalla distanza. 2. L'uso della comunicazione indifferita mediante messaggi o audio o WhatsApp. Non ha senso dire, come fanno ormai regolarmente tutti i medici di base, almeno quando io scrivo, arrivano queste risposte sia che sia email, sia che sia WhatsApp, che ne stavo parlando ancora l'altro giorno, non ha senso dire che i messaggi possono essere inviati solo in determinati giorni orari, perché non si risponderà fuori da questi orari, visto che il medico può poi leggere con comodo e rispondere quando può, e la email si scomoda, perché WhatsApp permette al medico di rispondere anche con audio rapidamente, anche mentre sta facendo app, oppure mentre sta guidando la macchina. Quindi, l'uso della tecnologia di WhatsApp permette al medico di di rispondere. Molti, vi faccio un esempio pratico, molti mi vengono a dire scusi dottore per l'orario, quando mi scrivono alle 4 di notte, ma non sei giusto che ti scusi, il problema è che io non ti risponderò alle 4 di notte, ti risponderò poi quando io sono svedito, sai quando posso. Il medico di base magari sta lo stesso fuso orario, non è quello il problema, però hai inventato un altro paziente. Però, perché bisogna dire, non mi devi mandare messaggi quando io non sono l'orario di lavoro, ti manda il messaggio, sapendo che tu non sei tenuto a rispondere subito, ma risponderai dopo quanto poi. Questa è la proposta. Rendere effettiva visione della terapia prescritta, questo il medico lo dovrebbe fare per aiutare il paziente, o guardare il video in alternativa, vedere dopo perché vi spiego dopo che cosa è. Colloquio diretto con lo specialista quando si ha qualcosa da obiettare sulla terapia prescritta, un rilascio al paziente di motivazione scritta. Attenzione, questi non sono cortesie, questi sono due libri previsti proprio dalla legge d'accordo del medico. Il medico non può, per sua opinione personale, perché gli gira così, per rifiutare la terapia prescritta dallo specialista, deve dare una motivazione. E se il paziente pretende che la motivazione il medico non si può soffrar, ma lì per motivi diontologici non legali, a un colloquio richiesto da uno specialista o da un altro medico. Se io chiedo, caro dottor, cosa avrei bisogno di parlare con te? Il medico non può dire, non mi vai con te e non ci parlo. Tra i suoi doveri, farlo. Io avrei, tieni, ho detto, tocco il conto, io non lo denuncio. Ma lo stesso, se il medico, guardate che è paritaria la cosa, se il medico dice, no, io devo parlare con lo specialista e mi contatta, io non posso dire no, io con te non ci parlo. Non lo posso fare. Sara, come unica rappresentante dei medici, dirà quello che stai dicendo, che non ho. Proposte al paziente per rendere le cose più semplici al medico, che abbiamo detto prima, il rispetto. Quindi, come tale, non è solo il medico che deve adoperarsi per rendere la vita più facile al paziente, ma anche il paziente che deve evitare quelle cose che potrebbe evitare e che potrebbero complicare la vita al medico. Ad esempio, io ho oggi ho mandato un documento sia ai medici del gruppo medici che ai pazienti, dove io mi sono messo a fare tutte le tabelle cose, valutazioni, ho raccolto tutti i dati sui costi dei farmaci, su quello che si risparmia con la prescrizione, cosa è prescritto l'SSN, cosa no. Ora, sì, c'è stato un po' di risparmio, ovviamente, insomma siamo a livello di 15 Euro, 20 Euro da questo punto di vista, quindi valutare se è davvero necessaria la prescrizione dell'SSN, la prescrizione mutualistica del medico di base, considerando il risparmio che è il fatto che comunque sia la mia prescrizione come alternativa per l'acquisto farmaci, anche grazie al documento legato alla terapia, che adesso sarà legato a tutti, per conoscere i anticipi di questi farmaci, tenendo presente che alcune farmacie, l'ho scritto anche in quel documento, potrebbero e legalmente ne avrebbero diritto, puramente, come siamo centrali solite, come rispetto del paziente no, ma legalmente loro potrebbero dire tu potresti essere uno che si stampa tante volte la stessa prescrizione di Tf di un farmaco che è previsto un po' meno ripetibile, quindi io non te la considero valida, se non è a firma inchiostata o eccetera eccetera, ok? Poi, siamo sempre alle solite, le leggi dovrebbero arrivare dopo, il rispetto, l'intelligenza dovrebbe partire prima, questo è il mondo ideale. Idem per eventuale analisi del Sunway, considerato anche la differenza di tempi per effettuare analisi, c'è prescritto che si chiama sanità relazionale rispetto all'analisi carico del paziente, quindi mi sono ancora messo a fare calcoli, ma se uno deve pagare il ticket per le analisi, su analisi dico, magari potrebbero costare più o meno alla fine quanto il ticket, se non avete un particolare guadagno a farlo, piuttosto fate qualche donazione nemmeno a me, ma rompete meno le balle del medico di base per cercare di ottenere più collaborazioni, perché per lui, certo cosa ci vuole a compilare un'analisi, una richiesta d'analisi, cosa ci vuole a compilare una prescrizione? Beh niente, ma se le moltiplicate per tanti tanti pazienti, loro sicuramente non lo sapete che hanno troppi pazienti, non riescono a gestire anche perché poi sono rimasti i propri medici di base, anche quel piccolo gesto può fare la differenza, ricordate che se tutti noi donassimo un Euro, che ne so per i bambini del Malawi da questo punto di vista, questo è come per un poverino che sto girando per l'Africa, quello potrebbe fare la differenza, perché se per noi ci costa poco, quindi un piccolo gesto di cortesia nei confronti del medico potrebbe essere, però ricordatevi che con vostro diritto avere la prescrizione, ma è come se io mi metto a litigare in mezzo alla strada, devo passare prima io perché io sono più anziano e quindi ho il diritto che ti cambia se passi un isopria un minuto dopo, cioè cerchiamo di fare le cose, questo è il mio consiglio, in maniera reale, utile e pratica per fare del bene collettivo da questo punto di vista, a volte quello che sembra una cara di rinuncio non lo è per niente, alla fine magari vai dal medico, devi prendere la macchina, devi andare lì da lui, devi parlare, perché lui ti dice no, se vuoi la prescrizione devi venire in ambulatorio, io non rilascio la prescrizione solamente a distanza, perché io devo verificare con te, anche questo a volte viene fatto, devo verificare con te direttamente di essere presente, quindi alla fine avete speso magari di benzina, di tempi di attesa, più di quello che risparmiate andando a comprare i papi, valutate, staffo per caso. Poi attendere quanto serve entro lì, i ragionevoli, non è che potete pensare che voi mandate la terapia al medico, gli chiedete la prescrizione e 5 minuti dopo il medico automaticamente come un robot vi risponde, magari risponde dopo due giorni, non so tutti come me, anche perché io lo posso fare perché non ho il numero di pazienti che c'è al medico, se avessi il numero di pazienti che c'è al medico non lo potrete fare, quindi attendere quanto serve entro lì ragionevoli senza mettere fretta al medico o insistere con messaggi ripetuti, considerato che normalmente non c'è nessuna vera urgenza, ovviamente se poi non vi risponde per una settimana o per 5 giorni, no, però siamo sinceri, non c'è mai una vera urgenza su questi problemi, qualche volta avete aspettato mesi o anni prima di fare una cura, sai quante volte mi capita dottore, io sono 4 anni che conosco il suo sito eccetera, adesso mi sono deciso, però devi mettere fretta al medico mentre dentro mezz'ora ti deve fare la prescrizione, quindi significa ci diamo una mano tutti nel famoso gioco di squadra che vi dico sempre che si potrebbe fare il gioco di squadra anche con il medico di base, fermo rimanendo quello che ho detto prima, che se un'epoca strutturale, comunque non è il paziente ad avere un dovere contrattuale, fermo io specialista e il medico ad avere un dovere contrattuale in fronte al paziente, abbiamo perfino il diritto di ricusarlo se vogliamo, ma noi possiamo ricusare il paziente, io posso dire, non è una prestazione di pronto soccorso, io posso dire al paziente scusami io non intendo seguirti perché ti comporti male con me, lo può fare anche il medico di base, però se accetta quel paziente, vi siete anche pagato da quel paziente, non direttamente, ma per quel paziente al dovere di rispettare un dovere contrattuale, questo però non esime il paziente da comportarsi in maniera rispettosa con il medico. Cosa potrei ultimamente fare io come specialista per renderle cose più facili al medico e al paziente? Ho avuto anche problemi a cosa metterci, portare il caffè, pagare mazzette per comparaggio, io non lo farò mai e quindi quello non è in modo che ho per rendere più facile la vita ai medici sicuramente e ai pazienti, però ad esempio, l'avevo già fatto in tutta la parte in passato, abbiamo il problema che io sono costretto a scrivere 22, 25 a seconda delle cose pagine di terapia e il medico no, 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 non ne posso leggere tutto, il medico non ha bisogno di capire tutto come il paziente, il medico ha bisogno di capire tutte le cose, ad esempio potrei fare un breve video rassuntivo della terapia, dopo aver due, cinque minuti, ma se in dieci sicuramente molto meno che l'università leggere tutto, magari uno per ogni variante di terapia o che dica le cose fondamentali per girare al proprio medico via Whatsapp, oppure potrei metterlo su YouTube, non aperto a tutti, ma con un link per il paziente del medico, il medico ci fa clic sopra e va a vedere il video su YouTube, mentre se è in macchina, non ho fatto mai, mi devi guardare, solo ascoltarmi la vostra notizia, dove io spiego le varie cose, caro collega, allora volevo dirti che la terapia che il paziente deve fare prevede questo, questo e questo, stai tranquillo che non esistono effetti collaterali su questo, ti prego però di controllare questo, questo e questo, cinque minuti, manco lo dovrei fare per ogni singolo paziente, se fossi, non lo devo fare per ogni singolo paziente, perché sono per terapia un po' preimpostata, quindi a quel punto basterebbero 5 minuti che il medico dedica, se poi non vuole dedicare manco quei 5 minuti e non leggere la terapia, sulla base di cosa valuta, ho già finito tutta la mia parte a questo punto, prendete la parola a chi volesse, siamo arrivati, scusate, visto che non ho visto chi altro è entrato dopo, giusto che lo chieda, c'è qualcuno, oltre Sara Ballarin, medico, c'è qualcuno che è un medico di base qui, o comunque un generale altro medico, se ci siete, per favore prendete la parola e presentatevi. Ripeto, giusto per essere sicuro, oltre all'autoressa Ballarin, c'è qualche medico presente qui? O sono tutti pazienti? Direi tutti pazienti, e quindi vale quello che avevamo detto prima, chiunque, per favore fatelo tutti, non è un obbligo ovviamente chi vuole, chiunque prenda la parola, dica tutto quel che vuole dire, rimarrate registrato le vostre osservazioni, le vostre domande, eccetera eccetera, o quello che volete dire, però ricordate che grande Sara, che potrà parlare e chiudere, lo faremo magari per ultima Sara, ricordati le domande o le cose che ti dicono, se puoi, in rappresentanza della classe medica, come persona che comunque lavora nell'ambito del sistema pubblico e del sistema sanitario, che conosce un po' meno meglio tutto, per più rapporti con medici di base, chiuderemo lì, se qualcuno vorrà rispondere via YouTube, come commenti e come già l'ho parato, io ce l'ho messa tutta, ma 170 medici, 90 compro memoria mandato due giorni fa, meno uno, però, una bella parola, chi vuole cominciare cominciamo? Volevo prepararmi in due cose, però sarà un po' confusionale sicuramente. Tu hai la prima volta Tiziana che partecipi, però non lo sai, ma cose fatte in maniera amichevole, non c'è nessuna ansia da prestazioni qua, abbiamo visto di tutto e fatto di tutto nelle nostre videoconferenze, io ho cominciato nel 2021, però all'epoca si radunavano 90 persone minimo per ognuna. Per quanto mi riguarda il mio medico della mutua è un medico veramente molto disponibile, non posso più lamentarmi di lui, è gentile, abbiamo un bellissimo rapporto e comunichiamo tramite Whatsapp, io trovo che Whatsapp sia veramente stata una rivoluzione per la comunicazione, io stessa comunque con la mia clientiera, la mia utenza, essendo estetista ed avendo diciamo a che fare tutti i giorni con tante persone, comunque comunico con Whatsapp ed è vera questa cosa che ti possono scrivere anche adesso per esempio oggi domenica mi ha scritto una cliente alle 7 e io risponderò poi domani con calma, per me è un ottimo metodo di comunicazione. Con il medico ovviamente è ottimale perché lui quando ha tempo risponde e io se ho paura di dimenticarmi qualcosa gliela scrivo subito, so benissimo che la aspetterò e quando lui potrà mi risponderà, ovvio che se poi si dimentica come dicevi tu Andrea magari dopo una settimana, dico dottore si ricorda che l'avevo chiesto? Sì sì, il mio medico mi risponde quasi sempre, ci mandiamo anche vocali, lui è un po' lento perché comunque è un po' anzianotto sul discorso di appunto che un po' si dimentica a volte le cose e un po' magari mi sbaglio le ricette, quindi io quando posso arrangiarmi da sola cerco di alleviare la cosa e magari se riesco ad arrangiarmi a non chiedere di sempre cose che posso fare da sola e magari per non sovraccaricarlo perché appunto mi rendo conto che se tutti quanti per ogni cavolata stessimo lì a chiedere, un medico non potrebbe neanche avere il tempo di fare il medico perché dovrebbe stare tutto il giorno a guardare messaggi e a rispondere a messaggi, quindi comunque avere anche un criterio da parte appunto del paziente sulle cose da comunicare e poi non so cos'altro dire, sicuramente non è per tutti così e ci sono medici e pazienti nel senso che a volte l'utenza è difficile perché le persone possono avere una certa età, non capire, non comprendere, non riuscire a usare i metodi informatici e anche i medici. Secondo la parola su quello che ho detto perché è interessante, io credo che quello sia un alitio ormai, io credo che è talmente diventato facile usare metodi di comunicazione come Whatsapp che a meno che non hai totale problema di ritardo cerebrale grave, io credo che a 90 anni una persona sia perfettamente in grado di usare Whatsapp, basta che glielo spieghi, ma che ci vuole? Per rispondere a una chiamata spiace un pulsantino verde, per chiuderla spiace quello rosso. Io credo che sinceramente sia una sorta di rifiuto a priori, no, 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 non ci riesco, non ci riesco, ma non credo che le attuali situazioni siano tali da far sì che un medico anziano o un paziente anziano per esempio non sia in grado di utilizzarlo. Io credo che ormai tu metti a un bambino di tre anni e un telefonino mai lo usa perfettamente esattamente come a un anziano di 90 e passa, credo che sia un alibi di apprendimento, no, 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 troppo difficile, troppo difficile, ma ci hai provato? No, non credo, non credo almeno questa è la mia opinione, poi io non faccio testo perché sono informatizzato da… ho mangiato pane informatica dall'84 addirittura, considerate io facevo programmi e programmazione sui computer, quelli verde chiaro, su verde spuro, dell'IPM e cose del genere, però io non faccio testo e non lo so onestamente, come per le lingue, tu parli tante lingue, ne parlavo già 4 a 10 anni, quindi non faccio molto testo, però io credo che anche se una persona che non ha mai avuto nessuna conoscenza decidesse adesso, è come la storia di comprendere il mio sito, io il mio sito dice, no, no, io non lo leggo nemmeno perché io di cose mediche non capisco niente, mai provato a leggere e vedere se io parlo medichese o se parlo esattamente come ti parlerebbe la tua cognata, tuo nome o qualunque cosa, perché io credo che quello che io scrivo se uno vuole sia comprensibilissimo anche perché spiego ogni singola parola e lo stesso vale per l'aspetto tecnologico se non è successo, non credo, credo che sia un alibi tipicamente, non ci riesco e manco ci hai trovato, tanto io dico sempre, ma come avete fatto a prendere la patente che è molto complicata di non imparare a usare il telefonino o altre cose? Sì, ci sono però persone secondo me che proprio non ci arrivano, nel senso che io questa cosa del Whatsapp l'ho spiegata a tanti clienti che io non posso durante il giorno rispondere, scriviamoci, mandiamo i vocali, niente, mandi il vocale, mi chiami… Non credo sia vero, perché magari invece poi lo usano per parlare con la cognata, la sorella, la cugina, la comare eccetera eccetera, e che pretendono magari da te il diretto per cui non c'è coltanto il Whatsapp, sai quanti mi mandano un messaggio? Sì. Mi mandano un messaggio e se io non rispondo entro 30 secondi, mi telefono, ma visto che non ha risposto, capito, ma è appena mandato il messaggio, cioè devi calcolare pure quei pochi, i miei pazienti sono molto rispettosi per lo più, però è quello che credo sia specifico nei confronti di te che offri un servizio, capito? Certo. Tu bene o male ti trovi nella stessa situazione doppia di paziente e di, anche se non sei medico, di personaggio, offre comunque un servizio a qualcuno, è ancora in un rapporto proprio, per cui credo che sia o no, io voglio che tu risponda subito, lo pretendo, e gli rientra nel discorso rispetto al suo prima, ma non mi stupirei se la stessa persona che ti dice ma io non so usare Whatsapp, lo stesse utilizzando 5 minuti prima per saltare con tutte le amiche, capito? No, è vero, è vero, sono d'accordo. È mia idea, però io vedo che i bambini, i figli della mia compagna che quando sono 5 anni sanno usare tutto, si collegano, vanno su Youtube, vanno qua, vanno là e cose, credo. Io ho 10 anni Whatsapp lo usa benissimo. 10 anni ci credo, sarebbe grave se non lo stesse, 10 anni hai detto? Sì, adesso ne ha 10 ma già da 3 anni che almeno Whatsapp lo sa usare, poi non ha il cellulare, nel senso che comunque quando usa il mio manda i vocali, è capace, però magari i bambini che imparano anche velocemente magari rispetto a un anziano, ecco, magari quello sì. Io sono un anziano, ufficialmente non lo sono ancora perché si diventa un anziano, credo 65 e ogni volta che ci sto per arrivare mi spostano l'età, però… No, magari dai 70 anni… Mia madre, mia madre ha 80 anni, fa tutto regolarmente con tutto e qualunque cosa, può fare video chiamate, può fare qualunque cosa, fa spiegarle le cose. Io pure ad esempio questi giorni mi sono trovato a dire ai pazienti vai nella sorta a guardare i documenti che ti mando, vai nella sorta a guardare i documenti che ti mando e nemmeno io, siccome uso il computer, nemmeno io so dove bisogna toccare, sono andata a guardare, poi trovi i tecculciantini e fai clic se inviare il messaggio e ci dai, queste volte… Ma il problema qui non è tanto per il paziente, perché i pazienti non dispostissi il paziente, ma è per il medico che io non uso whatsapp perché io non me la cavo con la tecnologia, il problema ce l'abbiamo anche con i medici che si rifiutano di usare la tecnologia, tu devi adoperarti per fare tutto il possibile per poter essere di aiuto al tuo paziente e non puoi a priori dire no, no, no. Se fosse per me io stabilirei che ogni medico deve avere un sito internet obbligatorio dove dichiarare le prestazioni che fa, quelle che non fa, i costi e tutto, qualunque cosa, è un medico privato, è un medico del base ovviamente, e ogni medico dovrebbe avere l'obbligo di utilizzare le risorse tecnologiche, non la scelta se hai utilizzato o no, però questo è il mio modo di vedere le cose. È vero, è vero, anche per un medico a volte magari un whatsapp potrebbe essere pericoloso, perché se hai paura magari che viene bombardato… No, tu hai detto una cosa che mi hai dato una… poi il parente verrà, anche se dopo, può essere pericoloso perché quello che tu lasci di scritto o di testo… Questo è il vero pericolo, mentre invece quello che ti sei detto a voce è così, a meno che l'altro non ti stia registrando, sono verbapolante. Vero, vero. Può essere cattivo, ma sono uno dei motivi che è uno dei motivi per cui, che vi dico sempre, chiacchereamo, vi spiego tutto a voce, ma io scrivo tutto. Quello che vi dico a voce non ha nessun valore, se poi non corrisponde a un pezzo di carta scritto, timbrato e fermato, che anche legalmente ha un valore. Se io ti prescrivo una terapia, se io ti scrivo nella terapia, tu non puoi avere nessuna conseguenza con quella terapia, io non te l'ho detto a voce che rimane tra me e te, sapete? Oppure il fatto che io dica, come tu lo sai, perché l'abbiamo fatto, se volete chiamare medici e qualunque cosa, a me fa solamente piacere, scusate mi sposto così ma c'è una sigla, mi fa solo piacere, se volete convolgere i medici e qualunque cosa, perché per me è importantissimo, non c'è niente da nascondere, il non voler utilizzare metodi che rimane traccia, è come la storia che ho detto della certificazione, poi Sara interverrà e magari ne sa un po' tu lei di me, di norme, di legge e di cose, ma da questo farà l'avvocato di medici, ma da questo punto di vista io credo che il medico non possa rifiutarsi la terapia, il paziente dice mi scrive per favore, mi certifica il motivo per cui lei si rifiute per schermi questi farmaci nel mio esclusivo interesse come previsto dal rapporto contro il quale, che c'è tra me e lo stato, la regione e lei come medico di base. Il medico non può dire no, non mi vado a scrivere perché te lo dico a voce, a me è capitato anche di una paziente che il medico gli ha mandato un messaggio e mi raccomando lei è tenuta al vincolo del segreto, quello che io le sto dicendo lei non lo può riferire allo specialista, ma stai scherzando? Non si può. C'è stata una paziente che il medico gli ha periscritto poi, pure stupido, vietato di riferire a me che lei non era d'accordo col dare dei farmaci. non ha molto senso, per cui poi insisto, io l'ho spiegato prima, io sono a metà tra il paziente e il medico, non prendo la posizione del paziente perché le persone, però com'è che io non ho tutti questi grossi problemi nei rapporti con i pazienti? Certo, può capitare, ma com'è che io comportandomi bene e gentilmente, non ho quasi mai problemi, non abusano di me i pazienti, non ti vengono a menare perché se sei in Cambogia, se fossi in Italia, ti pitterebbero pure a te. No, però pensate in Italia e in alto nessuno ha mai cercato di menarmi, nessuno mi ha lanciato le sedie contro, siamo sempre al suo discorso, però secondo me il paziente va educato e il medico va educato, educato prima di tutto, non è alla legge, la legge uno dovrebbe non ricordarsi manco che esiste la legge, Kant diceva che c'è un imperativo categorico morale dentro, il filosofo Kant, uno che c'ha bisogno della legge per dire non dovresti lanciare le sedie addosso alle persone, non devi avere rispetto per la persona che dall'altra parte sta lavorando per te e non pretendere in maniera abusiva e dall'altra parte devi avere rispetto per quel paziente che si diverge a te, non perché è uno che soffre, ma perché comunque perché dicono nel rapporto paritario, perché comunque il medico è una figura che sta di sopra più forte del paziente, il medico ha più potere nei confronti del paziente di quanto il paziente non ne abbia nei confronti del medico, il medico ha il diritto di letto, io non ti do la terapia mettiamola così, il paziente non ha diritto di letto, il paziente questo è un diritto, io ricuso il medico e lo cambio, ma siccome è un ricatto, è come se Eva avesse detto ad Amo, senti non te sta bene, trovate un'altra, ma ci stai soluti, come me ne trovo un'altra, come anche Sara c'è l'altro giorno, non ci stanno i medici, il povero paziente deve subire, la situazione di carenza di medici di base è da un lato giusto, giustifica che i poveri medici un pochino si lamentano che non c'è una cosa, dall'altra parte diventa un'arma a doppio taglio perché diventa anche una forma di ricatto in uno fronte del paziente, te sta bene quello che lo faccio io, vediamo se te ne trovi in altro, non ci stanno, sono tutti i pieni, quelli della zona e del territorio, se uno vive in una grande città pure pure, ma quello che vive in un paesino, in un'asle piccola o ausle, quello che è piccola che fa, che potrebbe veramente essere finito e non avere il medico di base, c'è un sacco di gente, sentivo l'altro giorno, che è scoperta di medico di base perché non c'è un medico disposto a prenderlo perché c'erano già tanti. Ci sono anche molti casi in cui il medico di medicina generale rifiuta una prescrizione di uno specialista, addirittura a volte si permette anche di sostituire i farmaci, per cui tu ti ritrovi in mezzo a due fuochi lo specialista che ti fa la diagnosi perché il medico di base non è stato in grado di farla e poi c'è la prescrizione, il medico di fronte all'evidenza si rifiuta di prescrivere la nuova terapia al paziente, per cui il paziente non sa più a che santo invocarsi e allora è costretto a comprarseli i farmaci, se è valida la prescrizione, ma spesso la prescrizione dello specialista perché non ha una firma originale etc., non viene presa in considerazione. Ma nel mio caso che faccio video con le insulenze, se normalmente lo specialista ambulatorio mi crede che a volte sono dei fogli incomprensibili, se sono scritti appena così, non so come il farmacista faccia capire, però la firma normalmente c'è, il problema si pone… No, la firma c'è, però non è originale, per certi farmaci la ricetta non è ripetibile, occorre la prescrizione, occorre la ricetta originale del medico… Quelle sono norme che non è possibile, quelle sono norme non decise dal medico di base, diverso, allora tu hai posto una serie di problemi, però uno è di così, mi sostituisce il farmaco, attenzione, da quel che so io il medico che deve anche tutelare il sistema sanitario nazionale, la collettività, la spesa pubblica etc., ha il diritto di offrirte, non credo che… non ho ancora mai capito, cioè se io preciso non voglio che sia un generico, voglio che sia quello, non so se il medico… No, ma non mi riferisco al generico, no no no, il generico poi sei tu a scegliere quale vuoi… Ho capito, fammi dire una cosa, ho capito… Allora, l'attestuzione col generico, stesso principio attivo, stesso principio attivo, non ho mai capito se il medico ha diritto di parla in sindacabile oppure no, se io… no, no non può, perché io potrei avere paura degli eccipienti che non sono uguali… Certo… Negativi e dire no, io voglio quel… Certo… Il farmaco… Non ho mai capito se il medico può liberamente sostituire con un generico… Poi… No 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 no… Poi aspetta, cambio prescrizione, cioè dare se io do un certo tipo di neurofarmaco… Quindi lei può dare proprio un altro principio attivo… Oppure rifiuto… Quello non lo può fare se non nell'unico, esclusivo interesse del paziente… Non lo può fare… Non lo può fare perché lui preferisce… Non è… Non lo può fare… Non lo può fare… Non può intervenire… Lo deve motivare… E quella motivazione… Siamo al discorso che facevo prima… Dovrebbe essere scritta… Il medico non rientra tra i suoi… La discrezionalità… Eh… Scusa… La discrezionalità… Nell'interesse del paziente… Non ha discrezionalità nell'interesse del sistema sanitario nazionale… Allora… Io parlo… Io parlo con cognizione di causa… Da… Da… Da professionista del settore… Mi è capitato di riscontrare che il medico abbia modificato la terapia dall'originale… Metti… Metti… Dello Torino… Del cardiospezzo… Del cardiologo… Non col farmaco generico… Perché il farmaco generico può essere sostituito se il paziente accetta che venga sostituito… Ma però… Capita tanto… Deve accettare anche lo specialista… Esiste un diritto dello specialista a che i farmaci… Sì… Sì… Ma può capitare che… Metti… Il medico… Facciamo il cardiologo… Mi prescriva un calcio antagonista… Il medico di base… Magari non è d'accordo… Ne prescrive un altro… Sulla sua ricetta… Dematerializzato… Quello che è… Addirittura a volte è insaputa del paziente… Per cui il paziente non sa nemmeno che il medico di base le ha sostituito il farmaco… E maresena… E maresena… Aspetta un attimo… Qui non stiamo negando che succeda… Qui stiamo dicendo… Ah… Se c'è il diritto di farlo… Due… Se è corretto moralmente farlo… Sono cose diverse… Che succede… Moralmente… Benissimo… Ma succede pure che la gente magari… Passa con rosso… Ammazza i ragazzini… Sì… Ma non vuol dire che quello si può da fare… Capito… Qui nessuno sta negando che succeda… Lo sappiamo benissimo… Ora… Il problema è… Può succedere… Non è perché il paziente non si ribella a quello… Perché se il medico non lo può fare… Da quel che so io… Poi insisto… Sara scusami… Parlerai ma dopo… Perché così fai il riassunto di tutto… E diventi il protagonista delle conclusioni… Se… Da quel che so io… Il medico di base… Non può cambiare la prescrizione dello specialista… A meno che… Non lo faccia… Nell'interesse del paziente… Lui lo fa… Non l'interesse del paziente… Lo specialista… Certo… Ha diritto a pretendere di essere informato… Come il paziente… Certo… A pretendere di essere informato… E se è riscritto… Se viene richiesto… Se viene richiesto… Nel mio caso… Io mi accontenterei di un colloquio medico… Se ci parlo… Se neanche me lo scriva… Il paziente potrebbe dire… Me lo scrive… Io ti do invece che questo farmaco per la pressione… Ti do quest'altro farmaco per la pressione… In quanto ritengo che… Nel tuo interesse di paziente… Perché da quel che so io… Non è consentito… Che quella decisione discrezionale… Sia per pura scelta del medico… Fuori dall'interesse del paziente… Perché il medico fa due ruoli… Due ruoli… Io prima non l'ho detto… Perché a me non mi riguarda il primo… Ma due ruoli… Quello di medico… Che si occupa di diagnosi e terapia… Cioè… Tu non vai dallo specialista… Vai direttamente dal medico di base… Buongiorno dottore… Mi fa male la cuore… Mi fa male la testa… Mi si alzata la pressione… C'ho quello… C'ho quell'altro… E ti rivolgi al tuo medico… Che non è solo un timbrerolo… Che deve solo… Solo il compito di… Certo… Specialista… Vuolo di agnostico e terapeutico… Lui è libero di darti tutto quel che vuole darti… Esattamente come sono libero io… Come medico… Se ti rivolgi a me… Di darti tutto quel che io ti voglio dare… Nessuno mi può imporre a me… Cosa darti o cosa non darti in terapia… Tu decidi se accettare o non accettare… Io ti do le spiegazioni… Perché sono duperose anche quelle… Si chiama consenso formato… Ora… Se il medico ritiene… No… Non ha valoro questa terapia… Perché personalmente… Ritengo che tu paziente… Possa avere delle conseguenze… Dovute a questa terapia… Però… Puoi pure mettere il nero su bianco… Perché se poi il medico sta dicendo… Ammettiamo ad esempio che… Io ti dico… No… Non voglio darti questo farmaco… Perché altrimenti questo farmaco… Mette le ali… Dice che è la Red Bull… Dice che questo farmaco… Mette le ali… Capito… Io a quel punto… Guarda che tu caro medico… Non sei una persona competente… Oh… Ci abbiamo… Cesare ciao… Ci abbiamo un altro medico… Non per andare per favore… Medici… Allora… Quindi da questo punto di vista… Da questo punto di vista… È fondamentale… È fondamentale che… Il paziente… Come tu dici… E chi sta dicendo la verità… È fondamentale che il paziente possa a un certo punto conoscere chi sta dicendo la verità… Guarda chi dice la verità… Questa non è la regola… E chi te la scrive… Ok… Ok… Ora… Io da specialista… Tutto quello che dico… Lo scrivo… Ok… Sì… Sì… Cioè… A me è capitato… Quando… Tu sei… Tu sei… Tu sei in pensione… Ma sei medico di base… Giusto? Medico medicina generale… Ah… Perfetto… Meno male… Uno… Allora… Poi dopo… Poi dopo… Allora… Quando io… Quando tu mi hai consigliato… Di togliere il diuretico… Dal… Dal mio farmaco antipertensivo… E… E l'ho chiesto al medico… Di prescrivermi un altro senza diuretico… Ha storto un po' il naso… Cioè… Ha… Ha fatto un po' un viso… Come… Questo è importante… Per te… Il motivo… Il motivo per lei era importante che ci fosse il diuretico… Al che… Le ho spiegato… Tutta la storia dell'idro… Potrebbe avere ragione il medico… Sbagliarmi io… Eh… Eh… Cosa devo fare… Io… Intanto mi sono ritrovata con la pressione a 170… Che cosa… Togliere il diuretico… Togliere il diuretico… Togliere il diuretico… Questo te lo posso garantire… Al nessuno ha mai alzato la pressione… Da questo punto di vista… No… Con la sostituzione… Poi… Con l'introduzione di un altro farmaco… Eccetera… Io ho avuto un periodo un po' così… Con la pressione alta… E da qual giorno… Io non ho mai assistito… Personalmente… A nessun paziente… Che si trovi un prendesene… Certo… Dipende per chi ha la pressione alta… E dipende la situazione… Se un paziente è cardiopatico… Ma qui non stiamo parlando di cose tecniche… No… Certo… Abbiamo fatto un'introduzione prima… Sul discorso del fatto che al di là delle regole… E al di là dei diritti e dei doveri… La prima cosa che conta è quella del rispetto… E dell'intelligenza di quello… Allora… Il medico deve tenere presente che quel paziente ha due problemi… Facciamo l'esempio della pressione che hai fatto tu prima… L'ipertensione… Ma anche il problema dell'orecchio… E che c'è uno specialista che sta dicendo… Guarda che io non posso curare sto paziente… Se tu non mi cambi il farmaco… Ok… Ora il medico… Se il paziente dovrebbe tenere conto delle due cose… Non dire… A me non frega niente che tu soffri per l'orecchio… L'importante è che io possa essere a posto con la cura… Perché il paziente non è né un'arteria con un corpo attorno… Né un orecchio con un corpo attorno… Il paziente è una persona… E quindi il medico dovrebbe tenere conto di tutto quel che serve al paziente… Nella sua globalità per stare bene o per non stare bene… Non mi pare che hai detto una tale fregnaccia da questo punto di vista… No… Assolutamente… Giusto… Ora… Io sono da medico assolutamente sicuro che non esiste problema a togliere il diuretico… A meno che non ci siano delle indicazioni… Ci esistono delle patologie per le quali non puoi togliere il diuretico… Ma in quel caso il paziente ha una contraddicazione assoluta alla terapia… Ok… Io sono assolutamente sicuro di questo… Però… Il medico ha pieno diritto a esprimere la sua opinione e dire… Caro Ollega… Tu sarei pure certo… Ma io non sono d'accordo… Per me sto paziente ha bisogno diuretico… Benissimo… Però me lo scrivi per favore… Oppure me lo dici a me… Non ti limiti a dirlo al paziente… Non rimane traccia del tuo rifiuto… Non rimane niente… Questo è il discorso… Perché se no il medico potrebbe anche essere… Non gli va… Oggi mi gira… Il farmaco… Ed esiste comunque… Non è caso… Abbiamo qui adesso… Cesare che potrà intervenire… Anzi… Io direi… Marisela hai finito tu? Sì… Sì… Grazie… Sara puoi fare invece le conclusioni… Cesare ciao… In qualità di unico… Medico… 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 Di generale… In grado di poter… Si abbassa un po' il volume… Che rimbomba la mia… Un pochino che rimbomba la mia… Allora… Ora ti condolgiamo per dire la tua… Da un punto di vista proprio di un argomento… Io sostengo… Ma vorrei che tu dicessi la tua… Che sia da un punto di vista legale… Sia da un punto di vista morale… Che per me la morale dovrebbe contare più… Del punto di vista legale… Ok… Per me l'aspetto morale di rispetto al paziente… Deve contare anche più… Del punto di vista legale… Ma non per la potenza legale… Il medico… Ha pieno di iscrizione… Di decidere… Se confermare o no… La prescrizione dell'ospitalista… Ma solo… L'esclusivo… L'ospitalista… E se il paziente chiede… Se il paziente chiede… Una motivazione… Magari la c'era anche scritta… O l'ospitalista chiede… Di essere inspirati… In colloquio col medico… Non è facoltà… Di dare… Per parlare della morale… Del medico di Baco… Limitarsi a comunicare a voi… A noi… Mi va… Mi stai sbagliando… 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 Ora sono racconto… Ora tra un po' mi metterò i navigolari… Perché ho… Un'assenza… Che disturba… Ehm… Sono raccordissimo Andrea… Per i… Però… Per i casiologi… Diureti… Onde… Dipertensione… O farmaco… Alcuni… Per i casiologi… Per i casiologi… Il primo farmaco… Ehm… Lo avevano malvoli seri… Poi… 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 Cesare… L'aspetto del singolo farmaco… Non era di quello che stiamo discutendo… Ma in generale… Eh… La riserva stava dicendo… Che… Capita stessissimo… Che… Il medico… Dice… La riserva… Riffiuti… La prescrizione… La riserva… Poi… Altri farmaci… Che non sono quelli… Quelli che lo specialista… E io ho detto… Ma certo che può capire… Ma deve motivare… Ok? Sì... Bravo… SON RACCORTissimo… Questo è… Non è... SON RACCORTissimo… Separiamo le due cose… Legalmente… Ho ragione… E' che il medico… Non ha diritto… Che lo dica io… Non ha nessun valore… SON RACCORTissimo… No… No… Non posso mettere giù… SON RACCORTissimo… Ok… SON RACCORTissimo… è una cosa che disorienta il paziente è un modo di fare perché non sa più se essere l'accordo con lo specialista era quello che dicevano loro io ho detto credo che chi vi ha scritto se non sapete chi ha ragione si descrive al peraggio di quello che sta dicendo le parole una cosa una cosa Cesare scusami con rispetto quanti anni hai tu? 7-0 perfetto, quindi c'erai 11 più di me non stiamo manco te nevelo con sua parola discutiamo prima dai su discutiamo prima su un intervento di Tuttiana che è una mia paziente che stava dicendo delle difficoltà che molti hanno sia pazienti che medici nell'uso della tecnologia ad esempio scrivere e io ho detto che secondo me quello è un audio e che a tua lingua età che uno vuole si vuole un secondo a imparare come scrivere un messaggio su Whatsapp e mandare un audio e rispondere tu cosa ne pensi su questo? allora io ho sempre usato Whatsapp ho cercato di limitare al massimo nei mondi perchè Whatsapp è immediato però so che ora non usa quasi nessuno per motivi anche negali non ho capito regali non ce ne sono questo ne sono sicuro io non ce ne sono ah si perché si trova in un sottomarino non so che cosa la privacy non è no Whatsapp sono anche sciocchezza è crittografato è intuente che nemmeno la compagnia è in grado di poter sapere che messaggi ti sei mandato o solo con l'algoritmo valutare se sono tutti uguali o cose del genere ma il contenuto non lo può decidere non lo può valutare però ora i colleghi stanno praticamente tutti usando Dottolib oppure Dottolib allora e abbiamo parlato proprio di quello quando tu non sei sì Dottolib stava crescendo quando io andavo lì non ci sento ancora adesso e hanno e abbiamo parlato anche di questo del fatto che molti colleghi medici di base dicono noi non rispondiamo a messaggi pervenuti va bene pervenuti fuori dal valino loro e pure poco ma il messaggio è indifferita nel senso che tu poi riceverlo a qualunque orario sostanzialmente Dottolib diceva ma io magari se aspetto l'uno di ma anche mi ricordo che ti devo dire perché ti ho capito che lo dire adesso il problema c'è secondo te a ricevere il messaggio e poi uno risponde con caldo due giorni dopo due giorni dopo pure nessuno è presente da fretta ma perché allora a me questa forza mi metteva anche più orta io ti prego per fare i messaggi chiedo in macchinata in macchinata e poi facevo conclusione più di 100 messaggi al giorno dopo il colib c'erano più di 100 messaggi al giorno io ti parlo che sono io non un medico di base con almeno una cinquantina di pazienti con più messaggi e più cose si può fare dai quanto ci vuole il paziente che ti dice una cosa che ci vuole a dare una risposta con un messaggio audio mentre sta in macchina secondo me visto che nessuno pretende che un svolta nessuno pretende che sia un svolta esatto esatto questo è vero è un segnale che è un svolta quando tutti stanno per dirvi se i messaggi scusami prego allora io usavo questa regola se aprivo un messaggio lo dovevo rispondere e rispondere in qualche modo perché quando hai tanti messaggi così se io lo apri e non rispondi dopo qualche giorno non lo vedi più lo perdi in realtà in realtà non è così c'è un sistema lo uso anch'io c'è un sistema basta segnare se l'ho aperto che sbaglio non puoi rispondere basta segnare quel messaggio che mi segna come da leggere ti rimani un palimodo con me e te lo ritrovi sempre per un presente presente quando tu vai a benvenzione non lo sapevo non è una scusa ma ci siamo anche noi grazie un messaggio apro mi sta chiedendo una cosa che io devo verificare non finire di rispondere ma in quel momento non posso perché c'è un paziente io lo segno come da leggere lo rivedo certo questa è una buona cosa nessuno certo il problema qual è ne discutiamo prima con Tiziana che lei peraltro lavora come studista quindi anche se non è medico fa il problema delle letture di balle dei suoi clienti di sull'upezione e poi con la stessa maniera che possa avere i miei medici il problema è che il paziente grazie all'uso di Whatsapp dice ti ha mandato un messaggio mi devi rispondere subito e allora gli ho spiegato prima ricordatevi che rispetto deve essere ciproco medico non fa il paziente ma anche il paziente non fa il medico ok però però perché uno dovrebbe dire a un paziente dietato scrivermi storie dalle ore di lavoro a me mi scrive una giornata di dormo di notte che partito mi dà poi la mattina dopo mi trovo scusso l'orario la mattina dopo mi trovo un messaggio mi riconirò con calma quando posso quando voglio quando posso di calitarlo e che problema c'è e invece io quando invito i medici generalmente mi arriva la risposta autonistica questo messaggio non riceverà risposta intanto inviato per regalare di lavoro il paziente che deve fare scusi la prossima volta mi ammalo il momento che alcune dira fa la prossima volta che mi devo ammalare se c'era di essere puntuale è solo il momento giusto non lo so sbaglio io dimmi tu ecco mi ne dico no no torna torna io poi mi facevo chiamare addirittura entro la mattinata e davo appuntamenti nel giorno stesso entro la mattinata ad esempio perché l'appuntamento solo per confermare la prescrizione prendi il caso mio che sai che l'orecchio non la posso visitare nunca c'è bisogno di incontrarsi col paziente non è che di solo la prescrizione certo certo comunque se ti capiterà poi guarda la parte dove io ho fatto tutta la mia prescrizione perché sennò giustamente poi ti mancano dei pezzi ah sì l'ho avuto visto allora abbiamo un medico di base anche se ora in pensione ma con in pensione in pensione a tre mesi ok appunto prendo gli amici e tolgo vai d'accordo e salutami la bellissima Siena però allora quindi visto che abbiamo il tesara un medico di base che in realtà conosco da tempo oltre tutto quindi approfissatemi perché se dovete dire qualcosa abbiamo detto in cui ti può rispondere io ti chiudo il microfono perché se no tu ci fai impazzire con sto rimbombo della cosa bene qualcuno che voglia intervenire posso certo si mancherebbe Andrea scusa sempre sul fatto iniziale che avevi detto il rapporto con il medico di base dalla mia esperienza visto che avevo un medico precedente che è andato in pensione con la quale parliamo degli anni 20 mi trovavo bene anche avevo accennato quella volta il rapporto con te io trovo molto importante dal mio punto di vista dimmi se dico stupidaggini che prima di tutto sia ben inquadrato il problema con il medico di base perché perché ho trovato che il diciamo tutto il percorso che tu hai fatto che descrivi deve essere capito molto bene perché vedo che nella farmacologia nel diciamo dell'iter c'è ancora un po' di carenza quindi molto importante secondo me il primo dialogo una volta chiarito Giuseppe non ho capito manco io non so cosa hanno capito gli altri di quello che vuoi dire prova a spiegare in un'altra maniera perché non ho afferrato manco io dove vuoi ridare una volta una volta capito ho capito l'iter ma cioè chi dovrebbe fare un iter differente io no questo punto come nel caso mio adesso dovrei tornare da lui avevo già iniziato a spiegare siamo stati circa tre quarti d'ora ha capito si è fatto una coppia della tua prescrizione generale con tutti i farmaci adesso devo riprendere il discorso quindi secondo me è importante capire bene cosa si vuole fare conseguentemente dopo tutti i rapporti possono essere con whatsapp tutto quello che vuoi e mi va benissimo ma prima di tutto deve essere ben inquadrato quindi provo a tradurre provo a tradurre se ho capito non sono sicuro la comunicazione che lo specialista fa con il medico di base scritta ho parlato deve essere chiara ed evidente ora siete tutti i miei pazienti tranne i due medici siete tutti i miei pazienti secondo voi quel che io comunico facendo avere il medico di base la terapia con la lettera che gli mando con tutto quanto secondo voi lasciate perdere voi i pazienti se per voi è chiaro o no che posso sempre spiegarvi le cose ma per un medico è tutto chiaro tutto evidente tutto senza ombra di dubbio oppure può essere considerato ambiguo equiloco no no abbiamo intendo questo perché c'è un percorso ci sono le fleboclisi le neurofarmaci la dieta tutto quanto quindi nel percorso nella logica del percorso deve essere chiaro cosa si vuole fare una volta io ho chiesto correggetemi perché posso imparare anche io a fare medico e la vostra esperienza quel che io il modo con cui io scrivo le cose il medico è un presente che ho detto di fare un convivio non è per te il discorso deve essere chiaro con il medico di base non so se mi spiego ma quando si comunica ci può essere un errore dovuto al comunicatore o al ricevitore della comunicazione no quello dico io sto chiedendo un consiglio da parte dei miei pazienti ritenete che io debba migliorare la mia comunicazione verso il medico no no è diissimo perché qualcosa è migliore e sono qua per imparare anch'io figuriamoci certo ma però deve essere secondo me il primo contatto secondo me se si può dopo ognuno faccia quello che crede deve essere diciamo personale a voce dopodiché se può avere il contatto personale a voce col medico se il medico con me non ci vuole parlare scusate che faccio vado a bussare la porta a casa tua aspetta aspetta perché a quel punto a quel punto quando ho iniziato il discorso glielo dico glielo dico guarda che il medico e lo specialista che mi segue vorrebbe avere un dialogo con te e no e non è così proprio perché dopo mi impongo anch'io mi dico che io ho il contatto da fare ci sono le cose da fare però prima secondo me sempre bisognerebbe che sia molto chiaro il rapporto quello che si vuole fare tutto là e chiudo tutto il resto dopo si può fare con whatsapp le conseguenze c'è ancora una cosa c'è ancora una cosa che avevo riscontrato c'è il problema c'è il problema mi ricordo in passato in passato ma anni fa quando se mi ricordo bene non ero in contatto con te se si devono fare le fleboclisi mi ricordo mi dicevano no non puoi farle a casa devi fare in ospedale bla 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 e quello è stato un punto in cui mi sono trovato un po' in handicap però sono riuscito a malapena a trovare la soluzione e chiudo spiego una cosa relativamente ad esempio alle fleboclisi allora come cosa generale noi ci stiamo mantendo in generale c'è uno specialista me in questo caso che scrive timbra e firma dei fogli dove scrive posso garantire in maniera assoluta la totale assenza di effetti di rischi e di possibili conseguenze anche qualora le fleboclisi venissero fatte a domicilio si possono fare perfettamente a domicilio non serve alcun tipo di ricovero punto il paziente va del medico il medico contrasta questo dicendo che no esiste un potenziale pericolo quello è un atteggiamento diontologicamente legalmente sotto altri aspetti estremamente scorretto e perfino punibile secondo me e mi piacerebbe ancora se è possibile avere l'opinione dei medici su questo nel senso che tu stai dicendo al paziente traduco questo medico è una persona non competente che ti sta facendo correre un rischio dichiarando che non esistono rischi è molto grave secondo me ora cosa ammettiamo che invece il medico abbia dei dubbi su questa radice ma io mica soltanto d'accordo non è che devi dire sì sì va bene ne fai domicilio perché l'ha ordinato lui e lui è il mio signore padrone no cosa dovrebbe fare prendere il telefono e dire Andrea posso parlare con te un attimo perché tu dici sta cosa ma io mica soltanto convinto che sia veramente una cosa così innocua perché sai hai pensato al fatto che potrebbe succedere questo dubito che riesca a convincermi perché è chiaro che io lo dico dall'alto di 25 anni e migliaia 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 di cose dubito che riesca a convincermi magari però sono io a convincere lui ma qualora il medico dicesse scusami ma io non me la sento non mi sento tranquillo nell'interesse del paziente ha pieno diritto a dire no io non ti appoggio le fibroclisi fatte a casa te le prescrivo solo se le fai in un ambulatorio ma non può farlo facendo perché mi sento più sicuro io così mi sento più tranquillo mi sta anche bene ma non può screditare me e far apparire me come un pazzo per far rischiare il paziente quello che succede regolarmente perché io sono buono perché se non fossi buono vi faccio passanguaio a tutti i medici che ci provano a farlo perché legalmente legalmente oltre che moralmente scorretto legalmente loro stanno facendo credere al paziente molti infatti per quello non fanno le terapie guarda e ti sei fidato un pazzo uno che ti mette pure per iscritto che non esiste rischio e invece tu stai rischiando tanto adesso lo facciamo se non dovesse succedere lo faremo come scusa? dico adesso se dovessimo rifarle certamente farò questo discorso con lui che si metta in contatto mi sembra la cosa più giusta ma non lo farà non lo farà a meno che non sia vediamo 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 anche lì è un dato statistico mentre io sulla sicurezza posso portarti un dato che non è solo statistico ma è proprio di anatomia e fisiologia non possono perché io escluso ogni possibile controindicazione fino al midollo fino a tutto qualunque cosa non possono esistere rischi a meno che non sia l'infermiere a metterti l'ago nella cocaina nell'occhio invece che nel braccio tutto può essere oppure faccio il cu da questo punto di vista però lì non mi baso solo sull'esperienza perché non è che il primo paziente a parte che io non ho fatto fare in ambulatorio da me migliaia migliaia decine di migliaia prima di liberalizzare e dire vabbè signori potete farle benissimo per conto vostro a casa con l'infermiere quindi ho verificato ma indipendentemente da quello io mi sento di affermare anche al primo paziente che le fa non esiste nessun rischio non è che uno siccome il primo può correre i rischi e il centomillesimo invece può andare tranquillo no se non ho il dovere di dirgli al momento non è mai successo niente non posso escludere che succedano no io scrivo al paziente e lo timbro non può succedere niente c'è un servizio dell'USL per fare le freboclisi a casa per cui è ancora più sicura questa cosa questo non lo sapevo questo non lo sapevo manco io sì e penso ci sia in tutte le USL lo deve chiedere il medico logicamente no io avevo fatto con un'infermiera specializzata avevo fatto a casa come sempre seguito dal dottor Lattore sempre da lui cioè a Siena penso ci sia in tutte le province insomma non lo so mi sembra anche giusto che ci sia certo pagare ci fosse questo non lo so perché torno a ripetere quelle volte che mi è successo al di là del dottor Lattore ho dovuto fare l'ospedale perché allora non sapendo a quel punto cosa fa uno che non sa il paziente che non è che non è è dotto su tutti gli effetti che può fare al di là di quello che il dottore spese no 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 Giuseppe scusami se ti trompo l'ho già detto prima mio consiglio io non sono nessuno per dire cosa bisogna fare se avete ma questo vale nella vita se avete davanti qualcuno che ve lo sta mettendo nero su bianco in brado è fermato contro qualcuno che non ci mette la faccia discorso generale dice ma io non so se credere che sto medico sia bravo o no io vedo delle recensioni dove dicono che è un cane e delle recensioni che è un bravissimo ma se poi guarda caso quelle che dicono che è bravissimo c'è nome cognome telefono e quelle e quelle cosa che ci scrive che so c'è l'alias sparghero arrabbiato chissà che cosa beh quando tutte sono anonime quelle cattive e sono tutte quelle buone sono tutte firmate e cose del genere un pochino di maggior credibilità gliela dai nel dubbio se il medico se il medico scrivesse la sua motivazione tu lì avresti da dire allora che c'ha ragione ma in quel caso io e il medico abbiamo il dovere nei tuoi confronti di risolvere di risolvere la nostra conflittualità allora vedi che secondo me uno dei problemi questo andrebbe presentato andrebbe discusso bene affinché capiamo andrebbe andrebbe molto generico chi è il soggetto di questo andrebbe io lo faccio io mando una lettera no ma non parlo di te signori signori allora preciso e lo faccio come registrazione pubblica scusate un attimo preciso questa è l'ultima versione della mia lettera che c'è sempre stata per i medici eccetera eccetera ma preciso che io a tutti i medici nelle terapie che mando metto alla fine intestata addirittura con nome del medico che lo considero più rispettoso la seguente lettera lettera per il dottor che ne so cesaretti ciati o quello che è gentile collega ti prego di valutare l'intero documento informativo sulla terapia per idro che è inviato al paziente passion name cioè il nome del paziente assedito di videoconsulenza che sarà seguito da una mia successiva prescrizione e se necessario di contattarmi su whatsapp o telegram per un colloquio diretto con me sempre credito e utile come puoi vedere eseguo sempre una struvolosa valutazione mediante questionario preliminare anche in consulenza di ogni possibile controindicazione a qualunque componente della terapia o interazione con altri farmaci assunti per qualunque motivo rimandando l'effettiva prescrizione a Dio dopo valutazione di analisi quando necessarie e dopo aver ottenuto una osta per eventuali controindicazioni relative per il tipo di disturbi a trattare la sicurezza assoluta viene sempre a primo posto prima della necessità di ottenere i risultati nonostante questo reputa importante anche la tua valutazione e approvazione circa l'impiego di neurofarmati segnalo che nonostante l'apparente uso flabber in realtà solo apparente essendo implicati anche per la gestione di ansia e stress sempre presenti da trattare con effetti poi su ormone antidiuretico e idrope come spiegato si tratta di terapia priva di qualunque conseguenze assolutamente sicura che propongo da quasi 25 anni di routine con gli stessi farmaci l'uso di terapia cortisonica per l'orecchio interno e idrope menere invece assolutamente comune e previsto da molti specialisti ma la differenza sostanziale come efficacia e azzeramento effetti collaterali la fa il carico idrico sempre associato anche le fleboclisi di mannitolo quando previste sono assolutamente sicure ed effettuabili tranquillamente a domicilio come da me proposto in piena sicurezza da molti anni se desideri approfondire ti consiglio di accedere al sito idropeinfo che potrai trovare tutto spiegato in dettaglio anche con riferimenti alla terapia scientifica e con molte pagine video con l'occasione ti segnalo organizzando videoconferenze il gruppo telegram eccetera ti porto i miei migliori saluti augurando buon lavoro e confidando in una proficua collaborazione l'interesse del nostro comune paziente e il resto a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti ora chiedo a Cesare che è davanti qua e non essere di parte perché ci conosciamo chiedo a Cesare qua davanti di fronte a una lettera del genere ma un medico non dovrebbe avere moralmente il dovere o di dire di sì oppure almeno di contattarmi visto che l'ho detto via rettondo e dirmi ragazzo mio sei scemo ma che stai dicendo o magari umanamente e dentro la scheda c'ha tutta la valutazione le controindicate esatto hai completamente ragione sono completamente d'accordo con te Andrea io non credo di poter fare meglio di così ma ne è venuto mi sembra mi sembra anche moltissimo esaustiva inattaccabile eppure com'è che nemmeno uno mi ha mai contattato uno una dottoressa una volta mi contattò dicendo guarda che non sono tanto d'accordo ne abbiamo parlato alla fine l'ho convinto è stato d'accordo uno in 25 anni specifici su questo settore e 35 da medico uno una dottoressa mi ha contattato dei medici non c'è questo fit sicuramente ho capito quando studiamo sulla categoria non sto facendo un discorso per me non esiste la categoria dei medici esistiamo come singole persone individuali uno può essere una persona del bene in tutti i settori e tutti i lavori però una mi ha contattato che io ho detto guarda collega anche se mi massacri di chiudi che già te voglio bene per il solo fatto che hai preso la briga di mandarmi una mail dicendo scusa vorrei un colloquio con te ma figurati subito però per fare questi tipi di approfondimento ci vuole a parte la volontà e la predisposizione però ci vuole tempo ci vuole non è facile trovare il tempo quando c'hai duemila persone e allora ferma tutto e allora io ho detto una cosa dammi la tua opinione morale ho capito il diritto al paziente di essere curato viene prima del tuo o di medico di lavorare e guadagnare è moralmente corretta questa frase secondo te da medico ok hai duemila pazienti che segui male tutti e duemila non ne seguire duemila ma così il povero paziente rimane senza medico di base ma se deve avere un medico di base che lo segue a cdc per non dire che cosa la terza parola è cane ok a sto punto è meglio non avere un medico di base è sbagliato ditemi voi se è sbagliato quel che sto dicendo cioè non è perfetto puoi justificarti dicendo io duemila pazienti non puoi pretendere però se nessuno se nessuno in 25 anni Andrea si è fatto vivo una ragione c'è magari anche due o tre però una ragione ci deve essere forse la stessa sarà una ragione forse la stessa della categoria dei medici però 170 medici invitati oggi ci sia solo tu a parte Sara ci sta sempre forse quella 170 medici sono stati invitati tu ci sei ma solo tu scusa ci faccio caso c'è una mano alzata da un po' certo scusa prova a chiedere non ho capito bene scusa prova a chiedere al dottor Cesare secondo lui il perché non ti hanno contattato certo Cesare rispondi se puoi se tu hai un'idea se vuole se vuole se vuole io lo dico la mia idea su questa cosa la dico ma volentieri di tutto senza saperli sulla lingua però spesso io dopo dire qualche nel gruppo in cui lavoravo insomma il tempo la voglia non c'è la voglia di affrontare la professione con uno spirito di anche gioioso anche di prendersi aria del paziente in modo positivo telefonare io per esempio telefonavo spesso con lei anche in ospedale spaccavo il cazzo poi è una cosa se chiami e contatti i colleghi che fa piacere perché certi contatti perché pochi a loro fa piacere ci sono contatti che si che si stringono ma gli otorini spesso chiamavo gli otorini perché adesso c'è sempre cose particolari poi tutti ci avevano disturbi dell'equilibrio qualcosa si chiede però vedo che non è un male si stringono i rapporti e si e va tutto nell'interesse del paziente perché il paziente è curato bene e ti sa qualcosa di più culturalmente ricevi sempre qualcosa di più se contatti quindi mi sembra veramente una cosa brutta perché non lo faccio posso posso riassumere con una cosa cioè manca amore per la propria professione quello è il vero motivo sì anche secondo me e allora ti faccio una domanda provocatoria al contrario non ci interessa sapere perché non ci sono gli altri medici ci interessa sapere perché tu ci sei perché tu sei qui oggi e almeno perché mi calma queste cose mi piace il tuo spirito per essere carino con me se così ti ringrazio ma perché ho dici no no mi piace poi il tuo spirito di metterti in discussione il tuo spirito aperto questo spirito mi piace mi piace molto insomma questa tua ma non puoi la vista insieme tutto al più capito la ribollita visto che siamo a Siena visto che per Siena perché tu da medico oggi ci sei perché hai interesse per le cose in generale anche per me perché tu sei comunque innamorato della medicina probabilmente tant'è che la professione ancora stai qua a far te rompere le balle gli argomenti del settore come fa uno andare a giocare alla finale dei mondiali se non gli piace il gioco a calcio come fa uno uno strumento a fare i concerti e si odia suonare lo strumento io ho la sensazione che la maggior parte dei miei colleghi di sto lavoro non piaccia penso anche io allora la medicina generale è un lavoro un po' particolare ti deve fare piacere non solo il lavoro ma anche il rapporto con la gente se non hai piacere del rapporto è chiaro ne ho tutti però sì la gente io non c'era giorno che discutessimo qualcuno ma lo facevo un affetto lo facevo secondo me loro sentivano che io li volevo bene perché anche io mi sentivo voluto bene e se crei una situazione così di scambio di empatia di avere avvantaggio tuo del tuo lavoro e del paziente e del mondo però è così è così perché è un'armonia insiderio reale qualche volta ho detto non lo so allora diversi pazienti mi hanno detto successivamente mi è sempre piaciuto di te che quando le cose non le sapevi chiamavi in ospedale e ti facevi guarda mi ero di metà e mi dicevano quando io Marco mi ricordavo l'avevo fatto magari l'avranno due dopo capito perché per il paziente fa molto piacere questo approfondimento ma poi fa piacere anche a noi dovremmo essere un po' tutti in contatto per risolvere i problemi e per e per anche sentirci più vicini perché in fondo la medicina non la può sapere tutta la medicina la sai a pelle di nobardo cioè mi devi approfondire nel mio specifico settore sono più le cose che non sappiamo io pure che quelle che sappiamo quindi figura eh sì e poi devi approfondire vedi c'è un problema lo devi in qualche modo approfondire un farmaco nuovo ma anche un farmaco vecchio è sei mesi che non maneggi e un anno e non dai cioè devi guardare un attivino insomma voglio dare una conferma aspetta un attimo Giuseppe un secondo solo giuro che ti lascio parlare ti chiedo una cosa subito io adesso tu non hai un contatto diretto non stai lavorando direttamente ma anche ammettendo che tu sia ancora al lavoro adesso avresti mai paura che un paziente possa essere violento con te e mettere le mani addosso o ti senti talmente a posto tu con la tua coscienza di medico che deve essere un pazzo pericoloso folle se no è molto difficile che un paziente possa diventare violento con me perché non gli ho mai dato occasione per esserlo hai capito la domanda? no sono d'accordo sì no io francamente non vedrei la possibilità ecco anche penso a quando lavoravo penso a quando lavoravo era una cosa lontana cioè non c'era questa e poi comunque mi scelta anche ora ma sempre non è che non e fa piacere rischi che qualcuno mi dice dammi un indirizzo perché io voglio andare da lui pure sempre hai fatto la tua bella figura morale qui capito è come il discorso di Sara che devo precisare ogni volta lei non può accettare i pazienti perché se no tutti si fiumerebbero andata lei capito vabbè volevo dare una domanda al signor Cesare mi ricordo che il medico di famiglia precedente o è dottor o è dottor Atticciati o è Cesare che magari non si offende d'accordo però il signor Cesare in questo caso non è fuori luogo allora guarda io da tutti mi facevo dare del tu ecco come me ok però il signor Cesare pare il portiere di casa ha detto così capito c'era chi non ci e io a tutti davo del tu c'era qualcuno che non ci riusciva ecco volevo fermare il medico di base precedente e se mi ricordo bene prima avessi contatti con Andrea come diceva lei aveva chiamato l'ospedale per favorire perché nessuno sapeva niente per dare questa terapia qua se era proprio interessato lui ma ma la formazione del medico di base precedente a quello che adesso era uno che aveva lavorato in ospedale che si era fatto dalla gavetta quindi aveva un altro rapporto che non quelli attuali diciamo così e quindi è conferma di quello che dice lei quindi era lei ed era il mio medico di base precedente mi devi dare mi devi dare del tu mi devi dare del tu no volevo tirare fuori un'altra cosa per chiamare un collega ci vuole anche un minimo di voraggio perché ti esponi anche a fare una figure che va anche a me questo non lo sapevo poi non sapevo poi non sapevo per cui tanti ora parlato di ingresso in ospedale no questo prima io perché non ho non ho fammi finire ho parlato prima io quando mandavo un paziente al fronte soccorso in ospedale chiamavo al fronte soccorso e dicevo guarda c'ha questo problema mi so accorto nel tempo che intanto trovavi un medio sempre diverso e poi non c'era la volontà di cacchio nomorato un po' smesso non c'era la volontà secondo me secondo me è anche un po' di presunzione sono io e comando io dove devo andare quello che dici tu è di secondo piano non lo so dico voglio darsi voglio darsi la presunzione delle professioni delle professioni in cui hai un alto potere se sei il farmacista il parroco il medico la supponenza il narcisismo capito è dietro l'angolo dipende l'errore fare l'errore è nasconderci dietro usarla a pro nostro e non a pro del paziente perché questo è l'errore principale perché ti toglie l'empatia ti toglie il rapporto e ti non guadagni più perché se metti una barriera non guadagni più delle obiezioni che ti possono fare gli altri capito dei suggerimenti diventa un io sono io e voi non siete un cazzo e già va bene ok grazie della chiacchierata Cesare questo era Alberto Sordi se non sbaglio no? sì sì il Marchese del Brillo Marchese del Brillo due cose volevo dire un attimo solo mi permetto numero uno quello che tu hai detto io dico sempre la frase non mi fate i complimenti i complimenti non ci sono mai cresciuto fatemi le critiche che quelle mi servono ma io la sensazione è che questo spirito di accettare il fallimento l'errore le cose di capire che solo sbagliando possiamo imparare tu hai detto prima sei uno che si mette sempre in discussione ma come fa uno a crescere se non si mette in discussione l'altra cosa che si non manca l'altra cosa che si non manca manca amore manca lì perché io mi metto in discussione perché devo apparire umile agli occhi del gente no perché amo e sono ambizioso amo il risultato e se voglio migliorare il mio risultato devo per forza correggere i risultati la seconda cosa ma spero che tu ti risieda la seconda cosa no aspetta mi senti mi senti ora sento anche se non mi vedi no lo so volevo guardarti in faccia quando facevo questa domanda molto piccante e provocatoria allora la seconda cosa nella tua lunghissima esperienza di medico di medicina generale ci sono stati specialisti che hanno provato in tutti i modi a creare un canale commerciale con te cioè cosiddetto comparaggio cioè dire mandami i pazienti che io te do la mazzetta cioè quella domanda non è se sono i medici a chiederlo quella domanda è se sono gli specialisti a imparare di acchiappare i medici in base con questo sistema oppure nella tua esperienza non l'ha affatto non l'ha affatto quindi forse lì sono un pochino eccessivamente prevenuto io perché io ci aspetto che non siano tanto ormai i medici a chiedere ma che siano gli specialisti stessi a proporre capito? va bene Antonio Nicola prego fate una cosa rivolgetele a lui le domande che ce le abbiamo una volta e approfittiamo di rispondervi molto più di me quindi io faccio solo da moderatore e da appassionato nel sentire imparo qualcosa pure io dunque volevo dire un paio di cose preliminarmente la cura che sto facendo sta funzionando quello non ce ne frega assolutamente niente perché non è tema dell'attuale conversazione ma non ci interessa a me ne frega sì ma quello me lo diciamo privatamente non è di interesse collettivo stiamo parlando di un altro argomento vai altra cosa altra cosa a proposito del rapporto con il medico di base ho sempre avuto un atteggiamento in passato un po' conflittuale specialmente quando gli portavo le le tue ricette insomma storceva sempre il naso ultimamente prima di iniziare la la cura come ti dicevo gli ho mandato tutta la documentazione che mi hai mandato l'ho girato a lui appena l'ha letto e sono andato per le prescrizioni non ha battuto ciglio mi ha prescritto tutto quello che c'era necessario evidentemente evidentemente che ha letto la tua documentazione e si è convinto della bontà della cura questo volevo dire perché è importante perché prima ho avuto sempre problemi per le prescrizioni dei medicinali d'ora invece la situazione si è nettamente appianata questo volevo dire grazie testimonianza interessante ma il problema è che non avendo cambiato io la variabile cioè non è che io prima invece non davo spiegazioni o quello che mandavo al medico era il comprensibile e poi adesso l'ho reso comprensibile si possa aver avvolcito ancora di più la lettera è come se uno dicesse sai che cosa strana questo film che non avevo mai visto prima non mi era piaciuto adesso l'ho visto e mi è piaciuto ma se ne avevi mai visto come faceva a non piacerti prima cioè se non se la leggeva la terapia prima e adesso se la legge bene ho fatto la metà del suo dovere come si dice capito nel senso che non è che io ho migliorato la mia comunicazione con il medico quella si è sempre stata anzi anzi addirittura i miei pazienti storici e tu lo sei perché ti ripeto tu stavi già sei venuto pure alla camelluccia mi pare o no sì c'è stato io ho riscontrato no no voglio dire voglio dire i miei pazienti storici gli davo proprio un papiro di lettere che era un pdf proprio con tutte le spiegazioni come se fosse l'intera cosa del sito da dare al medico quello c'è sempre stato c'è sempre stato ma lo so io le altre volte gli portavo solamente la sua prescrizione e lui torceva il naso adesso ci avrà avuto un tic si chiama spasmo ma quando ho scritto un'eurovascolare che ti devo dire però non gli ho dato ma ti voglio distorcere il naso mettiamo non so io questo io questo noto e questo dico insomma il comportamento prendiamo quello vuol dire solo che la prima volta ha avuto una reazione alla stessa evento diversa dalla seconda volta o dalla terza o dalla quarta non credo che quello possa essere imputabile a un mio miglioramento comunicativo cioè se lui si era letto la terapia la prima volta e non si era convinto la riletta stavolta scusate chiudete il microfono Vincenzi difficile moderare le videoconferenze allora se la prima volta lui l'aveva letta e ha storto il naso la seconda l'ha letta e ha trovato invece diverso allora esiste ancora la possibilità che io abbia imparato a comunicare meglio in maniera più chiara ma se la prima volta non l'ha proprio letta e ha storto il naso la seconda l'ha letta e non ha storto il naso forse perché anche se l'avesse letta la prima non avrebbe storto il naso perché era difficile trovare qualcosa da criticare magari capito cosa voglio dire credo di essere comprensibile poi Cesare stavo dicendo io nella proposta che ha fatto prima ho detto proprio perché siamo sinceri la mia terapia dei 25 26 pagine veramente ti porta via tempo a te medico se devi leggerla avevo detto una buona soluzione potrebbe essere fare di piccoli video c'ha il link il medico per andarci o gli viene girato direttamente riassuntivo che tanto tra colleghi ci capiamo in 5 minuti in cui io gli spiego in 5 minuti di video che si ascolta pure quando sta al gabinetto o in macchina pensi che sia una buona idea questa piuttosto che fargli leggere mi piace mi piace molto il video mi piace molto una cosa che rende le cose più facili al medico e magari non si tanto che se deve stare a legge tutto i cortisonici ci usano perché lo dico 2 minuti lo tranquillizzo sugli effetti collaterali e sulle cose una cosa è quello che il paziente deve sapere che deve veramente sapere tutto perché devi firmarmi un consenso informato altra cosa che considero inutile ma ho preso pure l'abitudine di fare quello ormai perché in realtà una terapia che io ti prescrivo e che tu fai a casa tua non è che vengo io obbligarti a metterti i farmaci in bocca secondo me il consenso dovrebbe essere implicito e fare le cose fatte meglio è addirittura quello però al medico secondo me non c'è manco bisogno che si regga tutto perché dovremmo capirci subito per cui un piccolo video potrebbe essere un altro modo per facilitare una proposta che ho fatto prima che contrasse mi piace mi piace molto farò anche quello io ne faccio un 4 se serve figuriamoci qualcuno dai che alla fine sta avvenendo come interessante pensavamo che venisse bruciata lì ma grazie all'intervento dicendo allora se c'è un momento di vuoto se c'è un momento di vuoto per te c'è sempre per tu c'è la prevista ho fatto un piccolo intervento qualche giorno fa sul ruolo siccome prima si parlava del ruolo del medio del farmacista e vi sintetizzo che stavo sopra l'uomo che non ha bisogno di identificarsi nel ruolo è perché conosce se stesso e si manifesta con la propria umanità perché dialoga con le proprie scelte con le proprie imperfezioni e vulnerabilità non abbiamo bisogno dell'uomo perfetto perché noi si sbagli per fare le cose per bene non c'è bisogno di uno non deve essere perfetto ma abbiamo bisogno che un uomo abbia buona volontà e che non abbia paura di mettersi in discussione e questo vale non solo per la medicina ma per tutti i ruoli sociali invece l'uomo che ha bisogno del ruolo che ha bisogno di essere meglio di sostituire il ruolo a se stesso è perché è carente in consapevolezza del proprio essere e delle proprie debolezze e delle proprie forze in una parola è carente in autostima meno autostima più mi difendo per questo ho bisogno del ruolo e difficilmente mi metto in discussione se ho bisogno del ruolo per la paura di nonare la mia autostima e quindi mi consegno abbare il mio ruolo quindi aumenta un narcisismo che è rigido non si mette in discussione la storia del Marchese del Grillo è un fratello e quindi non disdegno la repressione perché io meno mi metto in discussione meno più tendo ad essere repressivo come è successo in questi giorni del Covid in questi giorni in questi anni del Covid da parte anche degli ordini dei medici purtroppo l'uomo non ha bisogno del ruolo porta valore alla propria funzione perché la riveste di umanità è portata al confronto e questo è un valore sociale importante il confronto se io non mi vesto della mia professione ma la uso per gli altri sono portata al confronto telefono all'ospedale telefono a Andrea telefono mi faccia vivo l'uomo invece che si identifica nel ruolo tende a usarlo in senso compensatorio e si oppone alla critica perché sento che questo andrebbe abbandonare direttamente la sua autostima cioè da un ruolo da al ruolo un valore personale se non ho bisogno del ruolo lo uso in senso sociale riassumendo se non ho bisogno del ruolo se non mi serve essere l'essere medico io lo uso in senso sociale per gli altri invece se ho bisogno del ruolo tendo a conservarlo e tendo ad essere anche severo con chi mi sta sotto e gentile con chi mi sta sopra se mi ordinavo qualcosa che mi sono il governo di fare cose che non condivido tipo tani e vigile accesa attesa o altre cose poi le apri senza discussione su uno c'era Eric Fromm uno psicanalista del secolo scorso molto bravo che chiamava questa personalità di chi è gentile o superiori e severo o inferiori la chiamava personalità burocratica che purtroppo ora si sta un po' allargando chiunque non si riconosce nel ruolo ha bisogno di esprimersi con umanità e dove si perde umanità si perde verità aumenta perciò l'ipocrisia e diminuisce l'empatia e il rapporto di suo diventa più povero stavolta ci vuole l'applauso ragazzi perché io sono il primo ma fatelo pure voi a microfonia per io appena posso che venga a trovarmi in ginocchio perché tu mi dai lezioni io c'ho da imparare finalmente trovo un medico che c'ho veramente da imparare perché tu riesci a esprimere in dieci pensiamo la stessa cosa con la differenza io c'ho bisogno di un'ora per dirlo e manco riesco a convincere tu sei riuscito a sintetizzare 5 minuti quello che io c'ho bisogno di un'ora per dire quindi io devo imparare a esprimere lo stesso concetto in maniera più sintetica quindi posso imparare da te qualcosa però c'è però c'è lo pensare a questa io però io ad esempio lo farei questo discorso in maniera estremamente confusa però l'ho sempre pensato ma tu stai riassumendolo in due parole perché esiste pure in modo di farlo se non ti piace a te stesso se hai bassa autostima sei costretto a abusare degli altri per alimentare quella stima che da solo non ti sai dare se tu sei cioè usi il luogo in senso credo perché non lo usi per l'altro io sono un medico per i pazienti come perché io sono un medico senza camicia lì infatti faccio le videoconsulenze ma perché io non ho bisogno del camice da questo punto di vista perché il camice oggi non viene usato oggi viene usato non come sistema per rappresentare la pulizia ma viene utilizzato come ricordati che io ho la divisa e tu no capito cioè la stessa cosa di giro umano la stessa cosa quello che tu hai detto è giustissimo allora cominciamo a riassumere mancanza di amore mancanza di autostima questi potrebbero essere i problemi della classe medica adesso però io vorrei io ho solo parlato male dei medici parliamo male dei pazienti adesso vorrei che un paziente chiunque voglia faccia un esame di coscienza della categoria dei pazienti c'è di capire di dire cosa noi potremmo fare per aiutare i nostri medici carino come gioco no? fatelo finora abbiamo solo se ci pensate bene criticato i medici però non è giusto perché dall'altra parte non è che abbiamo gli istintivi santo quindi vorrei che qualcuno di voi che ci ha coraggio di farlo diventasse da paziente quello che propone qualche cosa per andare in controllo dei medici prego carino non ho idea no? chi lo vuole fare? l'avvocato l'avvocato difensore dei medici in questo caso e non l'avvocato accusatore dai allora facciamo sempre Cesare a questo punto Cesare ora ti puoi lamentare di qualche non lamentare perché tu fai solamente le costruttive come me ho già capito tu non fai mai lamentare le sterile ti puoi però dare suggerimenti ai pazienti su come rendere più facile la vita ai medici visto che non lo fanno loro lo puoi fare te? allora per rendere più facile la vita ai medici un paziente dovrebbe cercare di esplicitare i propri bisogni in modo in modo dopo un esame in proiettivo nel senso qualsiasi sintomo qualsiasi qualsiasi patologia normale parlo di patologia normale di solito trova una ragione di essere nello stile di vita nella modalità di affrontare problemi di farsi prendere dalle ansie in un certo modo ci sono pazienti che spottano non si guardano a un certo punto fermano queste la lettura su se stessi e ti propongono il sintomo sic semplicite e semplicite mentre dovrebbero cercare di allargare un paziente un paziente bravo è quello che ti dice il sintomo è un sospetto di soluzione miglioramente una paziente che mi dice non lo sai mi sveglio sempre nella notte a un meglio di vedere in mezzo se ti sveglio la notte prendi una prezzo di azzefina ora mi dica un po' più lunga invece e dice lei questa la signora disse sai perché perché io non ho risolto l'apporto di fratello è migliore di pensarci anche di noi dopo tempo qualche 15 giorni un mese e lei chiarifica il rapporto con il suo prevedo e questa cosa c'è solo se non si era parlato di questo problema lei si prendeva a mezzo di azzefina a mezzo per cui il paziente moderno è quello che più si sa leggere dentro in mezzo allora leggo un pezzetto così tu mi dici se sei d'accordo anche se dopo è scontato che tu lo sia a questo punto leggo un pezzetto di una cosa scritta in un mio articolo abbastanza famoso il credere alla sfiga o alla volontà divina il diresponsabilizzarsi il credere che tanto non c'è nulla da fare ma anche l'idea del complotto esterno il complebolizzare i medici cattivi la ricerca del colpevole il volere a tutti i costi trovare una causa esterna a noi stessi non è forse quel che avviene non cercano disperamente cause ma fatica ad accettare che forse la causa per cui altri hanno solo disturbi occasionali e io invece soffro tanto potrei essere io ovvero non il mio corpo che deve avere sicuramente qualche anomalia o malattia o causa che nessuno riesce a individuare ma magari il mio carattere la mia ansia la mia paura la mia debolezza la mia fragilità il mio battenmi fronte ai problemi la mia epocondria il mio prendere tutto male la mia mania di perfezione il mio essere bipolare ovvero gioire troppo esternale troppo il mio rifiuto a capire e pensare demandando agli altri il dovermi spiegare semmai il mio volere la salute a tutti i costi il mio avere paura di non averla in poche parole il mio vivere male al pari di quel passeggero il cui volo è stato un incubo mentre un altro l'ho stessa hanno affrontato quello stesso volo senza problemi e se fossi io il fattore predisponente che mantiene o farci vivare la mia malattia questo è quel che dovreste tutti chiedervi sei d'accordo? per forza per forza è d'accordissimo lo so ma il problema è che questo lo dico io lo dici tu io lavoro tantissimo su questo lo sanno tutti i miei pazienti sul aumento di resilienza sul modo diverso a affrontare le cose hai mai sentito medici soprattutto giovani recentemente che puntino su questo cioè non mi ha spiegato tu non le puoi dire al paziente fai l'introspezione ciao capito che vuol dire a sto punto ci sono persone che ci sono portate naturalmente altri devi dare dei dispunti perché rischi di essere portato su una falsa strada poi noi medici usiamo metto noi mi ci metto in mezzo anche se io non lo faccio però non vedo perché esimermi noi medici facciamo regolarmente ricorso allo stress alla cosa psicologica quando non sappiamo che cavolo dire non abbiamo capito niente ma pur di non ammettere non abbiamo capito niente diciamo è lo stress e io invece lavoro con una patologia veramente psicosomatica legata allo stress come l'idrope non è che dico sai lo stress ma devo spiegare tutto un meccanismo o cosa per poi concludere e ricordati che tutta sta storia della stress ormone antidiuretico idrope magari non è vero niente però è un modello che io ho creato basato su cose vere certo le singole componenti sono vere ma la certezza non te la posso dare neanche io però almeno provo a darti una spiegazione su come lo stress influisce e non mi sento mai i pazienti che mi dicono questo mi scarica tutto sullo stress perché non sa che dirmi ma è chiaro che se io gli dico allora tu c'è l'idrope che è una cosa lo stress per l'ormone antidiuretico ciao piglia sta pastiglia come pretendi che il paziente lo accetti quello è il problema capito? per cui c'è modo in modo delle cose alla fine io quel paziente che dice per me sei tutto scemo tu e io che dico per me sei tutto scemo tu ma lo dico in maniera completamente diversa otteniamo un effetto diverso ma se uno pretende di seguire il paziente tu devi tu devi fare quello che dico io obbedire perché io so il camice e tu no torniamo al tuo discorso di prima illuminante su quello che hai detto tu prima io abuso di te perché mi rivesto del ruolo eh sì mi rivesto del ruolo non vorrei essere cattivo ma è in contemattuale l'uomo sicuro di sé non stupra le donne capito il discorso che voglio dire cioè il sintetico il padre sicuro di sé non picchia i figli capito il discorso l'uomo sicuro di sé non abusa dalla moglie capito il discorso che voglio dire cioè il medico sicuro di sé non abusa del paziente l'abuso è un indice di fragilità del medico che usa guarda guardatevi la fragilità del potente non del medico di quello che in quel momento è stato messo in una posizione superiore è un po' la stessa cosa perché anche il medico è potente eh ai pazienti se gli dici quando ti fanno una cosa e che gli dici ma non lo so guarda andiamo da qualcuno più bravo oppure andiamo non perdono stima verso di te invece se aumentano se tu ammetti l'aumenta perché sono rassicurati capito sai non è quello invece sapere le cose a tutti in tutti in tutti i modi è una cosa che non non porta vantaggi né al paziente né al medico e poi sbagliare nella medicina ragazzi è normale l'errore ma sbagliare è normale a chirocinanti scusa a chirocinanti quando arrivavo dicevo sempre la prima volta se avete paura di sbagliare o gli errori vi mettono in crisi il primo errore l'avete fatto a scegliere di far meglio perché è la medicina è l'errore ma devi continuamente corregge ma qualunque lavoro l'importante è che uno faccia le cose cercando di evitare che qualcun altro paghi il tuo sbaglio che è quello che ho sempre fatto ho ammazzato 10 pazienti sbagliando terapia ma cosa vuoi che sia tutti sbagliano no ferma tutto lo sbaglio non è evitabile ci sono sbagli che non sono evitabili ma come pensate che io abbia potuto imparare mi avete sentito raccontare in videoconferenza l'altro giorno ragazzi volete vedere che forse io sta storia allora è fluttuante quindi è idrope probabilmente è sbagliata e devo rivedere tutto quanto ma dove vi sentite oggi come oggi queste cose magari da me e da un medicore come Cesare ma dove mi sentite dire queste cose di solito e sarà pure che sono sicuro che anche lei è così perché siamo persone che crescono riconoscendo che siamo falaci come tutti non vittime del dovere di performance perfetta ma il problema è che io non credo che oggi come oggi li ne freghi manco più niente al medico a molti medici della performance perfetta che proprio manco si pone il problema dell'efficacia della sua performance sul paziente diventa routine cioè il manuale e il codice stabiliscono che questa malattia questa è la tua terapia manca completamente qualunque tipo di non è empatia col paziente perché io pure io pure non posso amare il paziente io lo dico sempre io individualmente le voglio bene a tutti collettivamente ben piccherei a tutti quanti come categoria di paziente non le sopporto ma individualmente io non ho problemi specifici con nessuno ma collettivamente io considero la massa dei pazienti ma chi mi ha mandato questi loro lo sanno glielo dico sempre collettivamente capito però individualmente il problema è che secondo me molti medici non sanno più distinguere tra individuale rapporto individuale rapporto collettivo di categoria e i pazienti lo stesso i medici sono così voi se sarei medico io sono medico sarei medico non siamo così come quello di cui ho accusato altri medici e sai quanti ce ne stanno ottimi che sono ottimi medici e non merito assolutamente essere etichettati uguali agli altri mica che non ce stanno e se io ragionassi perché mi hanno fatto girare le balle i tre pazienti d'ora in poi io mi comporterò male con tutti ma non l'ho mai fatto non l'ho mai fatto quando io mi comporto in una certa maniera rivoluziono la terapia quando io dico basta non ci sono più personalizzazioni adesso decido io la terapia non è perché mi girano le scatole a quel momento è perché nell'interesse del paziente mi rendo conto che lasciare il diritto di scelta a volte può essere stato un errore il cambiamento io l'ho fatto proprio per questo motivo perché a volte la gente potrebbe dire mamma mia questo è un nazista ma come ragiona quando io dichiaro ufficialmente io sono contro la democrazia però la spiego non è che la dica e basta secondo me dovrebbe avere diritto di voto solo chi sa per quale motivo sta esprimendo quel voto non che anghingò per chi sa cosa voterò quella per me non è democrazia per me hanno tutti il diritto a esprimere la propria opinione però prima si è messo in condizioni di avere un'opinione non che chiunque apre bocca e gli ha fiato il mio ragionamento era tutti i pazienti io li metto in condizioni di sapere in modo che poi sono in grado di esprimere la propria opinione io ho molto più rispetto per una persona che è completamente contraria a mio parere ma mi fa un discorso preparato a uno apre bocca gli ha fiato come la storia del medico diciamo prima un giorno storcia il naso un giorno cosa non è cambiato niente solo che una volta non si è preparato una volta no per cui io sono dispostissimo a dialogare con chiunque la pensi contro me spero di trovare tante persone contrarie alla mia opinione perché così imparo se mi danno tutti ragione non imparerò mai ovviamente perché non ho interlocutori però quella persona deve essere preparata allora io mi sono illuso per anni ma continuando dire al paziente ti prego studia ti prego studia ho fatto pure le vignette di Charlie Brown che dicono eh ma sto medico pretende che studiamo e tutto niente non c'è verso non studiate e allora non siete in grado di decidere non avete letto il programma politico dei vari partiti dei vari candidati allora tu non hai diritto di voto questa è la mia opinione non sono un nazista o una cosa però quella non è democrazia perché poi il danno lo fai alla collettività perché se 800 stupidi su 1000 votano a cacchio di cane tu teoricamente hai danneggiato la comunità adesso vale per il condominio vale per le cose è quello che è per cui io mi sono trovato la gente che ha un rifiuto totale per l'apprendimento bene allora io mi arrendo invece che battermi devi 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 studiare non studiamo ma però per la via decido io decidi più tu devi essere mio maestro perché oggi mi permesso è il mio maestro ci ho porto su questo ci ho porto su questo sono d'accordissimo sono d'accordissimo se credo ti ho pagato prima per di sempre che sono d'accordissimo per quello perché ma ogni specialista ti ho pagato io io ti ho pagato apposta ti prego ti prego no sono veramente d'accordo quando uno viene a un certo tipo di filosofia come atteggiamento mentale per il resto seguo di conseguenza è chiaro che se un paziente dice scusi dottore io studiavo io non sono mica tanto d'accordo con questo discorso ma io figura perché te personalizzo tu ascolto le pubbliche imparo io imparo dai pazienti guardate io ho fatto un video che sta bello che ho pubblicato dice ho fatto grandi passi nella vita nella mia professione ma se lo potrei fare a chi lo devo ai libri ciao ragazzi prego ok paziente perfetto il paziente che è utile quando ti dà un feedback ci sono dei pazienti che ti accorgi che non ti danno il feedback e che te lo senti che non faranno l'operativa o che non seguiranno l'annusi questa cosa mentre il feedback è importantissimo secondo me per questo anche dagli l'opportunità che non ci siano scalini tra noi gli facilita questa funzione facilita il fatto di non essere d'accordo di poter intervenire alcuni magari hanno già fatto la medicina che gli ha dato effetti collaterali e non te lo dicono lì per lì perché magari hanno una sorta di timore reverenziale che non ho capito bravo questa è la parola giusta non ho capito se nasce nel paziente perché non ho mai fatto un medico di città o l'ha creato il medico cioè se il medico l'ha creato volontariamente ricordati che io sto più in alto o se il paziente che per principio stabilisce cosa hai detto tu prima parlando del tu tanto non si convincono io lo dico dammi del tu ma non ci riescono molti lo stesso buono ce l'ho pure io e magari gente perfino più anziana di me e dicono ma quello è il medico mica gli posso del tu ma io sono fregna buffo qualunque esattamente come te oppure sono un genio come te dove sta scritto che io perché sono medico io bisognerebbe togliere tutti questi paradigmi divisivi che ci sono nella società il medico dice Sara è il medico che lo impone rispetto alla differenza di cadere sì non è però purtroppo sono queste cose ormai ci sono è difficile togliere perché stanno da tanto tempo messe lì per cui però bisognerete togliere tutti i paradigmi divisibili dovrebbe davvero io in inghilterra si danno tutti prego scusa solo che non ti vedo perché sto sull'altra pagina prego in inghilterra si danno tutti del tu naturalmente cambia poi perché non esiste il tu singolare quello you è l'ex frurale ma questa è un'altra storia in realtà il vau che sarebbe la vecchia forma del tu che esisteva con lo vecchio inglese non c'è più in realtà come in argentina in argentina non siano tutti del tu siano tutti del voi io scusa un attimo solo io ad esempio sul questionario del paziente perché anche quello non può essere imposto scrivo tendenzialmente anche per installare un rapporto più personale e confidenziale meno subordinato con il paziente rispetto al quale non mi considero affatto a un livello superiore tendo a farmi dare del tuo e farmi chiamare Andrea con tutti i pazienti ricifratamente indipendentemente delle quali differenze tra tra di noi come d'altro invece usa anche tra colleghi medici è d'accordo preferisce mantenere un rapporto più formale e professionale e il paziente risponde se è d'accordo o no perché non posso non imporre quello non sarebbe giusto non è tu mi devi dare del tu o io mi prendo il diritto di darti del tu però alla fine mi rispondono tutti quanti certo ci mentirebbe ma ho scritto il motivo io non valgo più di te capito quello è il problema nel senso che o ci diamo per me quell'eli è mantenere la distanza ora quello che io sto dicendo sempre è paziente attenzione non la puoi mantenere la distanza per il tipo di la distanza non la puoi mantenere io devo farmi i cavoli tuoi entrare nella tua intimità parla di sesso con te sapere anche le tue turbe psicologiche devo essere non importa se poi non siamo veri amici ma io devo essere tuo amico e con gli amici dai è una amicizia è una amicizia quello che ci giochi solo a pallone basta se non è un amico è con il compagno di squadra che ci gioca a calcetto tutti i mercoledì da questo punto di vista ma non gli prendete lei prego lei sembra se no la partita dei fantozzi prego lei che sono libero dai su via poi non siete amici perché vi vedete solo per giocare a calcetto e non vi spartite nient'altro ma in quel momento fate parte di una squadra io non pretendo di essere amico dei pazienti con qualcuno non sono si è proprio creata per amicizia ma in quel rapporto dobbiamo essere fratelli amici intimi quello è il problema e tu che pretendi dall'amico che gli puoi girare le spalle e non ti accolterla che non c'è rischio pretendi la verità e che ti dica pure brutto imbecille stai sbagliando e anche il paziente lo può fare con me ma ci deve tu ti sei perso una parte prima che non c'eri quando io dicevo mi dispiace ma se c'è un conflitto tra medico e paziente io non difenderò il medico per principio perché me lo impone il codice deontologico io difendo chi ha ragione perché il paziente che non vuol dire che sia per forza il paziente vada bene non è che vado contro il medico se c'ha ragione il medico ho tolto il paziente ma io me ne sbatto allegramente il codice deontologico mi buttassero fuori per 3-7 mesi e mi radevassero per tutta la vita e l'ho detto chiaro io il paziente ho un dovere di verità perché se no ho tradito la fiducia di chi ha riposto il mio fiducia non posso mentire e poi ci starei male dai avere mollato il paziente delle prescrizioni di cui non sono convinto dai non ci starei non ci starei bene sai una cosa hai parlato mi ha fatto bene in mente una cosa mi faceva estremamente piacere quando gli impiegati dell'USL c'era uno in particolare mi diceva interveni a questo punto non si avvieni quando ti pare tanto siamo in chiusura ci mancherebbe prego e gli dicevano allo sportello gli dicevano lei chi dottore c'ha io c'ho il dottore qui io c'ho il dottore là e gli dicevano io c'ho Cesare mi faceva piacere questa che dicesse io c'ho Cesare ti sei rovinato oggi perché non ti conoscevo da questo punto di vista tu vedi quanto ti romperò le scatole per farmi dar consigli di comportamento con la gente che io ti ho detto tu non mi la posso però mi non ho letto oggi eh no preoccupate ti sei creato un bel guai oggi perché io come Sara come Sara Sara purtroppo ha commesso un errore inumano con me mi ha dimostrato quella persona talmente competente talmente con la voglia di ragionare che gli scasso l'anima in continuazione per ogni cosa eh signore io quando trovo i pezzi me l'hanno retta poi ne approfitto eh non sono sanguisuga ti hai messo male pure tu oggi lei fa la parte tecnica ma tu fai la parte comportamentale con i pazienti quindi io sono un pischiello che c'è ancora bisogno di imparare tante cose non ti preoccupare ma come tutti con i miei 60 anni ci ho bisogno ci ho bisogno imparare siamo tutti nella stessa io ho partecipato ecco dico solo due cose ho fatto tutta fino adesso perché abbiamo dato la parola a lui ma ti ricordo che io sono una tua paziente ecco non è perché non ho più avuto decidive che non sono una tua paziente e ripeto non ho avuto decidive per le tue stelle mi dispiace scusami sei stata retrocessa a volgare super consulente per ogni problema medico non te voglio più come paziente ma non te lo andai come consulente tecnico sulle cose che ti rompo le scapele quindi ecco io anche oggi partecipo in qualità di paziente poi sono anche medico nel senso che sono un medico specialista ecco sono un medico specialista non sono un medico vicino a generale e in più lavoro anche in ospedale quindi in due setting diversi rispetto a Cesare Andrea mi viene semplicemente da fare delle osservazioni anche proprio tecniche sulle domande che sono state fatte intanto bellissima l'idea del video perché spesso il medico mi dice io non ho tempo di leggere tutte le cose che magari anch'io inoltrato con tutto rispetto non avrà tempo manco di leggere il video mi permetto scusate per un'altra cosa ho detto prima che eravamo fuori registrazione quando io faccio le videoconferenze di due ore guardano dieci minuti se faccio i video di mezz'ora guardano cinque minuti se faccio i video di tre minuti guardano quindici secondi i pazienti ma non credo che mi bisogna cioè se io mi mando i video comunque sarà troppo anche quello secondo me mi sbaglierò però insomma magari in macchina mentre guidano cosa insomma gli si dà uno strumento in più poi è logico che c'è chi accoglierà lo strumento e chi no come sempre e do una precisazione circa la questione dei farmaci che diceva Marisella allora il farmaco diciamo di generico il medico che lo prescrive può scrivere nell'impegnativa non è commerciale suggerito addirittura può mettere il codice di non sostituibile ecco quindi il medico che prescrive è libero di consigliare al farmacista anche di non sostituire il nome commerciale circa la questione della prescrizione del farmaco il medico specialista è tenuto a fare l'impegnativa in ricetta bianca se non è un dipendente del sistema sanitario pubblico in denetalizzata o rossa quel che è se è del sistema sanitario pubblico è obbligato a fare la prescrizione del farmaco non può demandare al medico di base poi il medico di base nelle prescrizioni successive se non è d'accordo nella continuazione della prosecuzione della cura ha ragione Andrea deve motivare in modo chiaro e limpido perché non è d'accordo su quella terapia io spesso invito i pazienti a dire anzi lo scrivo proprio nella lettera lascio i miei ricapiti di telefono di confrontarsi in momenti in cui non sono d'accordo sui farmaci o magari loro sanno delle cose del paziente che io non so ecco quindi è importante mantenere la comunicazione e devo dire che alcuni colgono l'invito altri no ma io sono decoccio quindi li cerco in modo ostinato devo dire i miei colleghi ospedalieri un po' anche mi prendono in giro perché sentono le seguiterie telefoniche che vanno nel mio ambulatorio che cerco i medici di medicina generale però spesso devo dire il riscontro è sempre positivo cioè il medico di medicina generale per alcuni non è abituato a confrontarsi ecco io sono fortunata lavoro in equipa se ho un dubbio mi confronto quindi dare uno strumento al medico di medicina generale di confrontarsi con un altro collega spesso è liberatorio anzi con i medici adesso mi chiamano prima ancora di mandarmi pazienti ecco si instaura un rapporto naturalmente solo con alcuni non con tutti purtroppo e circa poi la questione del del whatsapp scusa ti interrompo solo perché passi a un altro tema così passi a un altro tema ci può essere il fatto che io sono un libero professionista e tu sei comunque una persona al lavoro in un ospedale in una struttura pubblica quello che è cioè il diverso tipo di rispetto che hanno i tuoi confronti rispetto al mio e so proprio io che gli sto antipatico e no può esserci anche questo sì sì perché comunque un po' ecco il medico di medicina generale dover contattare anche lo sì ma questo non so dire dove i problemi essere porta la domanda forse l'ho formulata male tu hai le spalle più protette di me contro un medico che si permetta di comportarsi male con te perché tu cioè loro sanno che tu hai più armi per potergli dire ah bello che può permettere queste cose io dico vabbè ma questo che vuoi che mi faccia può essere quello può essere che io non ho tuteli per guadagnarmi il rispetto ed è indipendente da qualunque cosa io faccia poi ci aggiungi che mi trovano su internet che faccio le videoconsulenze può essere che io è una caratteristica generale che io non posso modificare cioè io non ho i titoli per essere rispettato per me sì c'è questa componente ecco perché se ti chiama il medico ospedaliero oddio è successo qualcosa c'è qualcosa di grave a te ti chiamano a me proprio non mi si filano ma manco se vado in ginocchio ma allora devo dire che un po' dipende questa cosa anche dalla tipologia del paziente nel senso che il medico mi cerca soprattutto magari nel paziente oncologico il paziente complesso che sta male il paziente che ha un disturbo cronico non mi cerca cioè non riescono tanto un po' a prendersi carico di tutto ecco del paziente quindi forse andranno anche loro per priorità questo te lo so dire non essendo medico di base hai capito poi circa la questione dell'utilizzo di Whatsapp tu sai che i medici medicini al generale questo lo confermerà anche il dottor Cesare non sono dei dipendenti pubblici quindi organizzano loro il loro lavoro decidendo loro quali strumenti utilizzare ce ne sono alcuni che dicono io non voglio utilizzare Whatsapp ecco secondo me non voglio ecco Sara siamo al suo discorso secondo me non voglio non ce lo possono permettere eh lo so invece da contratto se lo posso non permettere mica tanto mica tanto nel senso il non voglio cioè il non voglio se tu sei in grado di offrire un servizio di pari qualità al paziente sì ma se tu offri un servizio di cattiva qualità al paziente il paziente ha un rapporto contrattuale con stato o regione il quale pretende un servizio di qualità infatti se il servizio di qualità non c'è aspetta anche al paziente e questo lo sai perché l'ho detto spesso invito anche i miei pazienti a segnalarlo il medico comunicando con colombi viaggiatori con piccioni viaggiatori con i segnali di fumo è in grado di offrire la qualità certo che c'ha diritto a scegliere lui come farlo non è solo pubblicare a usare whatsapp ma se il medico per colpa del non voler usare whatsapp non è in grado di assistere i suoi pazienti no mica la stessa cosa voglio io ditemi voi no 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 va segnalato anche perché è vero che hanno un contratto di convenzione però il responsabile dei medici in Cina generale è un medico dell'antienda quindi va segnalato l'ufficio relazioni con il pubblico in alcuni casi se uno vuole anche l'ordine dei medici ecco devo rileggere tu c'eri credo ma non c'era Cesare devo rileggere per capire a cosa mi riferisco alla prima parte il medico esercita un dovere nei confronti del paziente per conto del fruttatore di lavoro che non è il paziente stesso ma la comunità rappresentata alle istituzioni che si avvalgono la sua preadussionale per offrire il paziente servizi previsti da una sorta di contratto collettivo tra Stato o regione che sia e cittadini per esercitare questo dovere ha degli obblighi ma anche dei diritti ok il paziente in teoria in questo rapporto non è alcun dovere contrattuale né diretto né indiretto nel fronte del medico ma è solo beneficiario della prestazione nei limiti di quanto concesso verso rapporto contro il quale con Stato o regione scusate ho detto una cosa sbagliata quindi il medico certo che può allora io sono libero di dare i farmaci che voglio al paziente di avere la mia autonomia decisionale ma sono obbligato a fare il mio massimo perché il paziente stia bene sono pienamente d'accordo io ho un obbligo come io svolgo quell'obbligo sono affari miei certo no no ma è chiarissimo limpido ma se poi se poi per colpa della tua scelta il paziente ha una conseguenza ne sei responsabile anche del non usare Whatsapp quando potevi usare Whatsapp tu un medico sei tenuto a fare di tutto per rendere il più agevole possibile il rapporto al paziente mi chiede se è umano e poi siamo sempre alle solite quelle sono le norme di contratti io sto parlando di rispetto umano che ci dovrebbe essere prima delle norme prima dei contratti un medico come diceva un medico innamorato e come diceva Cesare un medico che non deve fare la voce grossa perché se sente piccolo lui riassumendo due parole quello è il discorso ma gli avanza un sacco di energia visto che vi manca visto che non deve utilizzarla per proteggersi dimmi Cesare si è interpretato bene il tuo discorso visto che gli avanza un sacco di energia per dare visto che non deve più diventare egocentrico nel vero senso della parola nel rapporto con il paziente ma può diventare paziente centrico perché non perde niente in quello che dà perché è coscientissimo è coscientissimo io do ma non sto perdendo niente non mi fai non mi sta diminuendo me questo intendo dire capito? Ti dirò qualcosa in più nel senso che ormai dal 2017 la legge 219 dice che legge dello stato italiano il tempo di comunicazione con il paziente è il tempo di cura quindi se un medico non comunica con il suo paziente non sta facendo il suo lavoro ecco quella è la legge la legge in Italia sono fatte per essere violate io sto parlando di umanità di quella legge interna ma per dirti che non è solo una questione così soggettiva se il paziente non va a protestare io voglio sapere chi è mai andato piuttosto vanno a menare i medici nessuno li denuncia è sbagliato infatti questo dico il mio invito è di segnalare quando c'è questa mancata comunicabilità con il medico medicino generale sembra facile allora mettiamo la situazione il paesino di come si chiama Rimombrosa non lo so ma cosa esiste quello della famosa della serie di bu il paesino di Rimombrosa ha 3 medici 2 medici curanti o magari uno disponibile all'inzona quello che è va a fare un esposto contro di lui per comportamento se vince cosa ottiene e magari il bottone per il medico non ci sta più manco quello dopo disponibile e se perde cosa ottiene il medico saumagna la prossima volta lo aiuterà pure di meno i pazienti hanno paura i pazienti hanno paura del medico di base me lo dico non continuazione io non posso ridicare ma poi la cosa che io dico spesso anche ai giovani medici che arrivano in formazione eccetera perché poi i pazienti mi dicono ah ma questa dottoressa ci parla ci spiega è così empatica io in realtà sono molto pratica dico guardate che se io sono qua a spiegarvi tutto è perché se il paziente capisce cioè riusciamo a fare un'adeguata educazione terapeutica io il paziente poi non lo vedo più quindi mi si riduce il lavoro non mi si aumenta il lavoro e spesso la sensazione è che tanti medici medicina generale su questa cosa soffocano proprio perché non riescono a comunicare in modo efficace con il paziente perché io lo vedo una volta gli risolvo la questione il problema e poi non lo vedo più e il lavoro mi si riduce quindi c'è anche un ritorno più il locutore sa più tu sei attaccabile se stai sbagliando questo è il problema per cui io mi sento come dicevamo prima talmente sicuro di me il che non vuol dire che sono convinto di sapere il contrario sono convinto di essere moralmente nel giusto non scientificamente nel giusto è diverso perché quello che sa le capolate che sto dicendo e facendo che infatti lo sconfesso sempre ma io sono convinto che sto facendo correttamente il mio dovere e che sono irreprensibile dal punto di vista e qui io metto il paziente in condizione di sapere il più possibile per beccarmi in castagna ma non lo consiglio una cosa negativa lo consiglio un aiuto che il paziente mi può dare a me certo lo voglio io faccio articoli in continuazione sul ruolo attivo del paziente ora se sono svegliati che fanno i corsi ICM basta con l'atteggiamento paternalistico il paziente deve essere trattato da pari ma poi nella pratica non lo fanno lo dicono ma non lo fanno io l'altro giorno ho messo un video l'hai visto tu ho messo nel gruppo medici però ho messo un video signori io da in poi userò la comunicazione empatica queste domande aspetterò la risposta perché quando vedo che il paziente proprio non capisce gli dirò con una domanda molto chiara ma che l'ho fatto ma tu ce fai o ce sei nel senso che in realtà ci sono quelli che proprio so del legno come si vuol dire però ho capito pure il medico di quelli devo essere non è che solo quelli intelligenti capito però certo ma questa pur a me mi fanno girare le balle quando i pazienti fanno 16 volte la stessa domanda o non capiscono però fa parte del mio lavoro che dicevamo prima allora che hai fatto a fare il medico se volevi la vita la vuole meglio secondo me il medico quando fa il passaggio del capire che non deve curare il paziente ma prendersi cura cioè il passaggio dal tu cura al tu care la sta la svolta nel senso che svolta la relazione col paziente e ottiene anche più risultati nella sua professione non solo di migliorare il suo approccio la voglia di andare a lavorare ma anche ne guadagna in termini di risultato sta là proprio la differenza io questo agli studenti anche di medicina quando faccio lezioni eccetera glielo spiego perché se non riescono a capire questa differenza poi loro stesso non riescono a continuare a fare questa professione hai capito? e io direi se nessuno deve intervenire ancora chiudiamo perché chiudiamo però a differenza delle solite volte in cui le conclusioni le faccio io io qui c'ho i miei due piccoli maestri uno per una cosa uno per un'altra che vorrei che le conclusioni stavolta le faceste voi cioè che messaggio finale ognuno di voi separatamente Cesare e Sara dareste alla categoria dei pazienti intesa come ai pazienti e ai medici di base chi vuole per primo farlo uno dei due io dirigo solo i saluti finali basta allora me la parola è piaciuta molto Sara l'ultima parola e l'ultima parola la vorrei lasciare a Sara perché mi è piaciuta davvero tanto questa cosa prendersi cura e decurare che è una cosa un po' così sembra un gioco di parole però è vero è vero è vero perché cambia la modalità cambia è un spirito con cui al paziente direi di essere di dare più feedback di non tenersi dentro le cose perché se dare un feedback al medico poi questo in qualche modo ci ripensa può essere anche che lo lasci cadere ma lasciare spunti di riflessione a chiunque ma al meglio specialmente da parte del paziente è una cosa preziosa per il paziente stesso per il lavoro che deve svolgere nella professione che deve svolgere il medico e per fai del bene anche a tutti i pazienti perché aumenti la consapevolezza rischi solo di aumentare la consapevolezza del medico che è una cosa buonissima è una cosa preziosa la nostra consapevolezza un abbraccio la parola a Sara ah io do solo un invito ai pazienti ecco facciamo parte della stessa squadra ecco non siamo tra barricate ma siamo due compagni di squadra e il risultato lo portiamo a casa solo insieme e quindi dobbiamo trovarci a metà strada quindi l'invito è proprio questo al paziente di mettersi in gioco e anche al medico di mettersi in gioco per insieme portare a casa il risultato e vincere la partita ecco io la penso così allora io ringrazio chi ancora c'è e anche chi c'era prima comunque perché poi abbiamo anche tirato un po' per le lunghe Cesare grazie mille te sei rovinato oggi come Sara è rovinata anche lei nel senso poi vedi quante volte ti romperò le scatole per avere dei consigli di atteggiamento con i pazienti mi sono creato il consulente specifico per una cosa grazie a tutti quanti non possiamo neanche fare la gran tradizione ma dai siamo pochi ma aprite i microfoni salutatevi tutti insieme e alla fine grazie perché soprattutto Cesare in particolare Sara tanto ci sta sempre ma hai letteralmente salvato la videoconsulenza della videoconferenza di oggi Sara e quindi che ti dica i grazie ci stai sempre non mi abbandoni mai però grazie mille Cesare perché ci hai veramente trasformato in una cosa estremamente interessante quella che rischiava diventare un buco nell'acqua ok dai aprite tutti i microfoni saluto collettivo con i pochi che siamo rimasti grazie ciao buona domenica ciao ciao buona domenica buona domenica ciao a tutti e mille grazie buona domenica ciao